Ciao a tutti e a tutte amici e amiche di Cycling Chronicles, io sono un raffreddato Luca Saugo e vi do il benvenuto alla nostra nuova live del sabato in cui seguiremo insieme la Strade Bianche 2022. Prima di partire però presento i miei compagni d'avventura, oggi abbiamo un gruppo particolarmente nutrito, quindi iniziamo dal nostro Jacopo, meglio noto come Spalloni. Ciao Jacopo, come va? Buonasera, buon pomeriggio a tutti, Luca mi ha tratto in inganno cambiando orario, va tutto bene per quanto possa andare bene in questo periodo. Dopodiché abbiamo un offeso perché non è stato presentato per primo, Alberio da Brugherio, al nostro Alberico Parodi, ciao. Ciao ragazzi, va bene, siete pronti a vederci finire in come ti dico, io non tanto, ti riposto la palla. E per finire abbiamo l'editorialista di punta di Alvento, l'unica persona seria qua in mezzo, il nostro Alessandro Routieri, ciao Ale, come va? Ciao ragazzi, grazie dell'invito. Ho detto, sono passato a fare un salto e ad aggiornarvi su ritiri e cadute. Si è appena ritirato anche Kampner. Ecco, allora io direi di fare due cose. Prima Albi spiega un attimino cosa prevede il nostro programma di oggi perché abbiamo deciso di distruggersi e poi Ale ci fai un attimo un riassunto sulla gara, tanto saluto da in barca perché sta già succedendo un finimondo in realtà. Però prima Albi spiega che cattiva idea che abbiamo avuto oggi. Allora, abbiamo avuto questa idea di autodistruzione praticamente, che consiste nel berci uno sciottino alcolico, bevande a piacere, base di piano alcoliche, ogni volta che in commento, sia sulla RAI o sto seguendo sulla RAI, Luca sta seguendo su Eurosport, viene pronunciato il terzo, i terzi vengono pronunciati in classe, sesta classica monumento, o sesta monumento, o monumento sempre riferita alla scuola. No, se riferitava ben a monumento, finita veramente, come etilico. Quindi seguiteci per vedere fino a dove questa malsana idea ci porterà. Bene Ale, spiegati un po' la situazione, la caduta di Alaphilippe e come il gruppo si è, spessato in questo momento. Ma, per quello che si capisce, la situazione deve essere abbastanza, diciamo, incasinata. E ha un, più o meno, ha un poco meno di 100 chilometri all'arrivo, forse era 98, 99. Quindi, appena si sono collegati con le immagini in diretta, è proprio in testa al gruppo. Io credo, non vorrei dargli la colpa, inutilmente, al povero Oldani, credo Oldani abbia, cioè questo fu stato lui, insomma, un corridore dell'Alpiscina, ha tagliato la strada ad Alaphilippe in seconda e terza posizione del gruppo. Alaphilippe ha fatto una caduta spaventosa, ma tra l'altro sta rientrando in gruppo Alaphilippe proprio in questo momento, oltretutto. Ha fatto una caduta spaventosa che non so come abbia fatto, sinceramente, a non farsi male. E niente, da lì c'è stato un susseguirsi di ritiri, sono ritirati Beno, Gianni Vermersch, lo stesso Oldani, adesso è arrivata la notizia di Kampen, Herzegba Moore. Pare che dietro, adesso, vabbè, adesso stanno rientrando il gruppo con Alaphilippe e anche Rota, però pare che dietro ci fossero anche Valverde, Moric, rimasti un po', diciamo, attardati. Comunque la situazione è ancora abbastanza, adesso il gruppo è abbastanza nutrito, però la situazione è anche abbastanza incasinata. Sì, diciamo che un po' la situazione è rientrata, però ecco, Beno ha riterato e altri nomi magari ancora dietro, perché è rientrato Alaphilippe, però Moric, ad esempio, non era con Alaphilippe, quindi o era già rientrato, può anche essere perché il gruppo è in dritto, oppure è dietro anche Valverde, non so dove sia. In questo momento, Pallo, parliamo un po', intanto che vi dico anche a voi in chat di dirci se sentite il termine sesta monumento, perché chiaramente noi siamo anche un po' distratti dalla live. Pallo, facciamo un po' il punto sui favoriti. Manca Van Der Poel che ha vinto l'anno scorso, manca Van Aert che ha vinto due anni fa, manca ovviamente Gambernal, si prospetta sulla carta una sfida tra Juliana Philippe e Tadej Pogacar. Sì, esattamente. Tanto mi mangiano anche due tortellini, così. Diciamo che fino a pochi giorni fa, fino a ieri, pensavo che la corsa sarebbe stata principalmente una sfida a tre, tra i due che l'ha elencato e in più Tom Pitcock. Purtroppo Pitcock ha dovuto, per dei problemi di salute, rinunciare alla corsa proprio ieri e quindi il numero di favoriti principali, diciamo, si è ridotto a questi due. Comunque, a progetto di Pogacar, mi sembra che sia caduto anche lui, adesso lo stanno inquadrando. Sì, sì, ma anche la divisa visibilmente sporca e rovinata sulla schiena, quindi è caduto anche lui, anche se era nel gruppo di testa perché si è rialzato subito. Intanto ciao Primo. Sì, puoi dire che come sempre in questa corsa c'è un nutrito gruppo di outsider perché è una corsa che alla fine, poi vediamo sempre che ci possono far bene svariate categorie di corridori. Sono sia tutti corridori da nord che anche alcuni corridori da Corsa Tappo, Corsa Lardenne. Noi vediamo, dovrebbe partecipare Covi, insomma è uno che può far bene, ha avuto una gamba, ha una buona gamba. Ora non so se è rimasto in accaduto o no, però ovviamente al fatto di avere il principale favorito forse in squadra e quindi questo potrebbe rallentarlo e costringere lavorare. Sta lavorando molto bene anche, cioè sta lavorando impossibilmente in testa anche la Bahrain e Luca prima ci ha detto che Bilbao è andato molto forte nella tappa degli strati la Valenziana, è andato bene arrivando nonno decimo anche l'anno scorso alla strada bianca e sappiamo che lui è bravissimo a guidare la bicicletta in discesa, l'abbiamo visto l'anno scorso, è una tappa che ha vinto al Giro del Trentino, al Tour of the Alps si chiama adesso, ma anche quando ha aiutato Caruso nell'ultima tappa dura nel giro, insomma quindi un ottimo bike handler e questo sicuramente lo può aiutare. intanto è rientrato Valverde e niente, poi vabbè ci sono tanti outsider possibili, non so, in casa Giumbo ci sono degli ottimi corridori, c'è Benò che ha fatto vedere di avere una buonissima Benò ha ritirato, quindi dice che il capitano adesso può essere Vader il nostro Darth Vader facciamo un giro così, un nome di un outsider che secondo voi oggi potrebbe vincere, Ali Marvale Ale Beh, dai il mio outsider me lo sto giocando un po' simpaticamente da stamattina e dico Clement Venturini Non sei l'unico, eh, non sei l'unico, anche opinioni autorevoli hanno scelto lui come outsider Si fa chiaramente per ridere, eh, però dai, è un bellissimo, cioè dai, un corridore a me è sempre stato simpatico, insomma è sempre fatto simpatia Cordorragò tra l'altro la scelta quando fanno il giochino su Eurosport Sì sì, fatto, fatto Sì sì, esatto, esatto, ridevamo prima anche per questo No vabbè, dai, ci sono tanti nomi Dai, Spallo, il tuo outsider Ma io vado con il Google Google che va sempre bene, si è schiantato anche lui in questa forza Ma mi pare che sia caduto anche lui, sai, non so se si è ritirato Ah sì, guarda, l'Alpes mi ha appena twittato, è ritirato anche Google Un saggio stamattina, che non farò il nome, sono io Ha detto, mi aspetto una grande prova dell'Alpes, sono morto, è una strage, non è rimasto standard Io scommetterei su Simon Clark, che è andato forte anche nelle cose qua Il corridore è sempre molto sottovalutato, una carriera da sottovalutato Decisamente sì Però è uno che si piazza con costanza in top 10 in queste gare e sta andando molto forte nell'ultimo periodo Ma comunque gli outsider in questa corsa non mancano in sede di scrematura per il fantasiclismo C'erano una trentina di nomi molto interessanti No, anche perché mancano i favoriti invece Beh, ne mancano i primi 4 dei primi 5 dell'anno scorso Quindi è questo il problema Anche un rota, ad esempio Covid è andato molto in sede di cronostici Era stevenato già da subito Però se mettiamo Covid dobbiamo mettere anche il rota che è andato forte Tanto quanto, se non addirittura di più all'Iqueline Ed è anche da meno settimana Sulla settimana scorsa alle corse di giorno francesi Quindi magari è ancora in crescita Iniziano gli sterrati Tra l'altro, piccola parentesi Domani inizia la parigianizza Lunedì inizia subito la tirreno adriatico Big distribuiti molto bene tra le due gare Quindi mi aspetto qualcosa di molto interessante Dai percorsi in entrambe le gare, tra l'altro Sulla carta, sempre Mi assento un secondo e torno subito Devo prendermi dei fazzoletti Sì, io tanto sulla Rai sono in pubblicità Quindi se vuoi sapere su Eurosport mi aggiornate No, io condivido l'autarchia nazionale con te Esatto, le corse si guardano sulla Rai Come diceva un nostro grande amico che Alessandro conosce No, però a parte questo sono comodo a guardarle sulla Rai Sul computer Perché Eurosport player non mi va tanto bene Skygon, non so perché non funziona Comunque c'è un bel Gianni Moscon ancora in gruppo Dai, speriamo bene Ale però profilo basso E anche Miguel Angel Lopez è ancora in gruppo Già una notizia che non sia accaduto Già una notizia che non sia accaduto Strano che non l'abbia provocata lui Esatto No, vabbè, ma perché se poi fosse finito un'era caduta Sarebbe finita, non so, la valle Terzo in qualche paesino della collina toscana In Slovenia Insieme ai soldi Avrebbe menato qualche contadino L'altro nome che mi ha presso un sacco è Guerreiro Che andò molto bene l'anno scorso nella tappa dello scherrato Ma ragazzi, immaginate quali sarebbero i favoriti ad esempio di Adriano Dezzani Gimondi, Merckx, Battagli, Baronchelli Poi Bertoglio, Sronni, Mosera E il portoghese, Acassio, Da Silva I signori arriva sempre Già solo questi è stato il migliore di quello di oggi Il portoghese E quelli di Cassani? Beh, io vedrei bene oggi qualche ragazzo giovane Penso ad esempio al diavolo rosso Giovanni Gerbi Ma no, questa è una smussola No, è forte Il povero Rosmusser lo sta ancora cercando Ma no, cerca di farlo da 15 anni Sì, è già passato i 15 anni, sembra ieri È vero, è vero Peraltro, nella Alpsin, vabbè Bisogna vedere C'è Standard C'è Standard e c'è anche Merckx E' ritirato Mohoric Vabbè, questa è una buona notizia per il mio fantasiclismo Perché io non ce l'ho E quindi Che pallo Vabbè, hanno giocato tutti i Vellens Più che altro hanno giocato tutti i Vellens Io non ho Vellens, maledetto Sempre lui No, Vellens In sedia di fantasiclismo Bisogna andare contro i nostri istinti Di non mettere Vellens Mi raccomando Si trova A un minuto Ma Santini Ma non barate Spalloni Spalloni Come lo vedi il portoghese Acasio Da Silva Insomma è un po' come me Nel senso della guardia Anche lui la televisione Spero No, ma poi Con Gimondi Con Gimondi C'era più Agostini Acasio da Silva Non è dopo Verso Sì, ma io facevo un mix Proprio di noi Ha commentato 40 anni Adriano D'accordo Ci troviamo in mezzo Tanto salutiamo anche il nonno Orlando Ma qui l'anno scorso Non era partito il tentativo Di Gainez Evermarch E compagnia Ma guardali lotto Comunque alla Filippa È già tornato davanti Ah, Filippa ha fatto di go Ecco Van Gils Che si vede in testa Gruppo Il portoghese Van Gils Megliori telecronisti Rai ed Eurosport Odierni Campagna per Eurosport Sì, anche il legno a Lazzaro Il legno a Lazzaro E la Rai Il mulettista E il commissario Salve L'altro giorno L'altro giorno Alla Secondo me Ballan Per la Rai Magari è un pontano di voce Così non troppo televisivo Però è uno che Capisce molto Quello che vede Ma anche il petacchi Non è male Solo che è un po' Sopporifero Giusto un attimino Sì È un po' La voglia di vivere Di petacchi Solo che si percepisce Attraverso uno schermo No, comunque io Anche se L'ultima live In cui sono venuto Ho avuto uno sfogo Contro De Luca De Luca mi piace Come commentato No, a me De Luca Mi fa divertire No, l'altro giorno Aspetta che Alla igueglia Sera Polla per Avanti Lui ha fatto una crasi L'ha fatto diventare Pereira No, ma l'altro giorno De Luca Era scatenato E anche Saligari Andava dietro Saligari Ha regalato parecchio Mamma Saligari Covi Covi È più in difficoltà E poi No, ma poi Continua A chiamare Aiuso Jan E non Jan Aiuso Il nipote Di Ulrich Jan Aiuso E poi anche Johan Johan e Jan Aiuso Salutiamo Il nostro Dan 97 Appassionato Di Wrestling Beh, chi non Appassionato Di Wrestling Comunque C'è Parlando Di Telecronisti Un periodo Ha fatto Commentare Ha recalcati Tipo Il Turo Piuta Ma quanto Sarebbe Bello Un commento Stile Wrestling Con Un soprannome Per ogni Corridore Sarebbe Bello Bellino Sì Il problema Che oggi Sovrannome No Va bene Alcuni Sarebbero Politicamente Scorretti Nutellone Tartufone Nutellone Quando si sono Incontrati Surrigo Nutellone Tartufone Sfida Sfida In Pastizzeria Franno Saincresciuti Con Quelli Un altro Ollo A D Mi Piace Pancani Come Storpiava i nomi Aveva Levi Leipimer Lo trovo Un pochino Pieno Pieno Di secco Chi Può essere Una critica Sì Pancani Eh sì Neanche a me piace Tanto Pancani Non mi piace Il fatto Che durante Le gare Se lui Inizia Un discorso Deve per forza Finirlo Anche se Sta succedendo Il finimondo Cioè Se lui Ti sta Spiegando Che Beh il Panchetti Panchetti Ce l'ha Purtroppo Con Pancani Non mi è ancora Andato giù Il Renco Di Pancani Contro Frum Nella tappa Di Campana Di Minaglio Del giro De E Martello Dice Che è stato Zitto È colpevole Tanto Cosa Dice Perché C'è Nibali Che regala Emozioni vere E poi C'è Invece Chi Frulla E basta Mi chiede Molto Fastidio Intervista Gianni Mosca Attenzione Sidenza Che Tiverà Due Porchi Magari 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 Prima di Dovervi Ahimè Lasciare Volevo Solo fare Un piccolo Off Top E fare I complimenti A Silvia Persico Perché Veramente È vero Di Silvia Aperti Quei Scirini Vanarroi Che ci hanno Gasato A bestia Veramente Super Una grinta Veramente Ha fatto proprio Un bel salto Di qualità Quest'anno Prima Prima Nel cross Adesso Su strada Su strada Poi chiaro Oggi Era una Corsa Però comunque Davanti sono Arrivato Le più Forti Anzi Ragazzi Ma Mi devo Agliare Un attimo Volete L'imitazione Di panchetti Sì dai Poi Fai l'imitazione Di panchetti Che poi Vado Stai davvero Bisogna Mettersi Bene Perché Ah già È vero Me ne ero Dimenticato Vladimir Adesso Vediamo C'è C'è Questo Ebbè Ebbè Dai Dai sì C'è Questo Questo Corridore Davanti Che Mi sembra Non sono Sicuro Ma un ragazzo Che seguivo Già Già Quando ero Giovane Che Che era Un avversario Di Moserone Mi sembra Poi Magari Reggimi Vladi Ma Mi sembra Il portoghese A Cassio Da Silva E Berlini Dice sempre No 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 Vabbio Sempre Comunque Asgra Locomotivo Locomotivo E occhio Anche a Ricci Carapazzo Vediamo Poi È una fase Rosicherei Io Non è Narvaez Narvaez Che Bello In palla Anche Al Dai Ragazzi Vi saluto Vi ringrazio Per il passaggio Ciao 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 Buonasera Ciao Ciao Buon lavoro Anche Goditi Questo zoccarato Sì Fatti Fatti Il persico Al maschile È lui Grande Grande Goc Ciao 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 Tra l'altro Forse Più avanti Riesciremo Ad averlo Proprio Dai primo Entra in live Tanto hai il link Vieni dentro Con noi Non farei Non farei Calabrese Dai Vieni Non farei Il cinese Fa il lombardo Vieni Il lombardo Facci il milanese Fai come spalloni Figa No Dan Dan In senso di Poi C'è anche Fare il calabrese Un po' Tant'amore Per il popolo Calabrese Uno dei miei Migliori amici Tra l'altro Sembra quello Che dice Non sono Tanti amici Però sì Uno dei miei Migliori amici È Calabrese Anche Con Silano Che fa il podcast Con noi Cigo ci chiede Come vediamo Carlo Rodriguez Canna Che è andato molto bene Alla Valenziana Sullo sterrato Io Sono curioso di vederlo Infatti ero quasi tentato Di metterlo Al fantaciclismo Perché ho messo Tutta gente Che ha Buoni precedenti Sullo sterrato E lui effettivamente È andato Molto bene Alla Valenziana Un attimo Che abbasso la telecamera Perché mi sono messo In modalità Panchetti No perché Questa cosa Qui per Panchetti Perché Panchetti Una volta Ha fatto un Live Con Allora Si vedevano solo Gli occhietti Che sbucavano Poi non lo rendo bene Per i capelli Tipo squalo Che spunta Dal nulla Intanto siete tanti Quindi vi ringraziamo L'altra volta Sabato scorso Abbiamo battuto Buttato giù Il muro Dei 60 Aspettatori unici Quest'oggi Vogliamo fare Ancora meglio Andiamo un attimo A vedere come Sta andando la gara Jacopo sta battendo Il cosplay Di Alex Schwarzer Sono Alex Schwarzer Campione olimpico Dacci le spalle Ma poi c'è Spallo Quella borraccia Lì dovresti avere Dentro lo sciottino Cos'hai Un Don Perignon Riserva Del 1887 Che tieni Nella tua vita Nella cantina Nella tua vita Sul lago Mazzone No Si può dire Materiale estremamente esclusivo Che era direttamente Alla Toscana Ecco Pensavi invece C'è una grappa Amaro grappa Bonollo Qualcosa del genere No Questo qui Ce l'ho preso Perché ha una lore Dietro Che una decina D'anni fa In ristorante Facevamo delle feste E tre clienti Si ubriacarono Con questo qua Avevamo Ci aveva dato Questa bonollo Dei mini graffini Così E insomma Dopo aver bevuto Questa roba qua Questi tre Andarono in discoteca E sembra che passarono Una serata Non troppo allegra E si svegliarono Su dei tanti In un motè Con un gran bruciore Hanno fatto Hanno fatto tipo Una notte da leoni Ma invece che a Las Vegas O a Bangkok In Veneto Esattamente No io Sto chiedendo se bere La vodka È politicamente Corretto In questo momento Sto storia Non vorrei urtare la sensibilità Non vorrei urtare la sensibilità Anche il Mosco Mule L'hanno bandito Adesso verrà sostituito Colpecia Pensa Dai come stiamo messi No veramente No io stavo scherzando Ragazzi ma veramente Voi ho letto sta roba Poi magari era una fake news E quindi come Il fratto è buono Non sono un grande fan Dei cocktail Eh no Chiave null Ma ragazzi Magavamente Cioè queste sono le vere preoccupazioni Che cosa Rinominare In un cocktail Non so come stai ammessi Diversarvi Non inquadrati Dalla canna Grazie dando il consiglio Ce l'ho Ce l'ho a fianco Appunto per quello E ci arrestano Per prima ti chiederò Filippo Secondo Eh io l'ho visto bene Io l'ho visto bene Era di pergambetà Poi non si sa mai Cioè Alla Filippo Il tipo di corridore Che a un certo punto Magari vi riprende Va in crisi Totale Però c'erano a star bene Comunque 64 All'arrivo Un minuto e quattro Per i fuggitivi Gara Che non è ancora Entrato nel libro Comunque davvero Brutto Questa caduta Non ci voleva Ero molto curioso Di vedere Benot In veste da capitano Secondo me Era uno dei principali Favoriti Peccato 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 Davvero Corriere Che mentisasma A zero Però con la gamba Che ha messo in mostra Nella due giorni Beh D'inizio La stagione bella Sarebbe stato un brutto Cliente per tutti Tra l'altro Con questa caduta C'è anche il rischio Che il gruppo Se la prenda anche Un pochino con calma No 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 Lasciala Anche se credo Che a Montessante Maria Gioco forte La corsa Si romperà Però c'è sempre Il tratto successivo Che è un po' Su porifero È una delle cose Che non ci piace Credo Parlo a nome di tutti Di questa corsa Però credo Che non sia possibile Rimuoverlo Chirurgicamente Se si vuole Fare No Il pass Che gestione Di stagione Mi fa Che è l'unica O sbaglio Secondo me Il problema Che può avere oggi Questa gara Prova Tra poco Lo sopriremo È che c'è tanta gente A cui andrebbe bene Un arrivo Sullo strappo finale Anche in gruppetto Perché alla Philippe Comunque gli va bene A Benoit Cosnefroix Che è probabilmente Il terzo favorito Va bene ad esempio Simon Clark Va bene alla stessa UE Voglio dire Che ne ha anche due Da giocare Gianna Orlando Mi consiglia Come bere bene Gianna Orlando Non so se Vai vai Albi No no Dicevo che Il nonno Dandone Sta tantissimo Grazie L'intervista di Morici Ce ne sbattiamo Il coglione Tanto si è ritirato Ecco Cioè non so Se è un Clark Come vorrebbe Tanto arrivare Sullo strappo Eh No Tutti vorremmo Un po' di selezione In meno 40 Però Sì Beh Clark Sì Perché comunque È lo specialista Di questi arrivi qua Gli strani Ti ha fatto Da fatti bene Tipo All'Andalusia È arrivato anche davanti Con EFOR Eh Tra l'altro Stavo per dire A Valverde Interesserebbe Anche un arrivo Così Non lo so Magari Pogacar Poi ha voglia Un po' di cambiare Le carte in tavola Perché lui può Partire da lontano Può fare una solo Può farci un po' divertire Però adesso Vediamo comunque Un po' come va adesso Davanti C'è comunque La The Koenig Avevo visto Un Alpesin E Comunque Siamo agli ultimi due anni Vabbè che l'edizione Agostana era un po' Sui generi Per la collocazione Per il momento E tutto Però In entrambi i casi È andato via Un gruppo ristretto Su Monte Santa Maria Sempre sotto la spinta Di un corriore Nel 2020 Fu il sangue Che è stato anche E nel 2021 Van Aert Vedete un corridore In grado di fare La stessa cosa Quest'anno? Pogacar Se vuole Se vuole Se vuole Se vuole Pogacar Magari Peglio Bilbao O qualsiasi corridore La Bahrain Restando intero Primo Fa un discorso interessante Dice che Se il suo Aper Van Aert Saltare questa gara Allora Tecnicamente L'idea sarebbe Anziché Farsi una strada bianca E una tirreno Per il podio Si fa Un periodo Un po' più Calmo Dando alla Parigi Inizio Per magari Vincere due tappe E basta Tanto classifica La Paroglitz E quindi Risparmiare un po' Di energie Vista per il nord In realtà Io pensavo Che ad esempio L'anno scorso Cioè Pur facendo Quel calendario L'ha vinto L'Amster Gold Race L'ultima gara Che ha fatto Ha vinto La Gantt Ma due giorni Prima Era andato male Ad Arebeck Quindi secondo me Il problema Di Van Aert L'anno scorso Non era Relativo Alle gare Che ha fatto Era Cioè E' andato male Nelle corse Con i muri In pavè Nelle altre E' andato bene Ma io direi Anche che è andato Non tanto bene Nelle corse In cui c'era Un altro Corriere Invece Quelli in cui c'era E' andato Non c'era Invece E' andato Molto meglio Direi che E' un problema Di chi si trova Conto Quest'anno Non ci sarà Van Aert Ma c'è Colbrelli Che ha anche Troppo A Van Aert No Adesso Deve dirlo Io non me la sento Cioè Primo Dovrebbe essere Il primo A saperlo Che è anche Un bene Non fossilizzarsi Sempre sui stessi Programmi Essendo L'ultiposo Dal corridore Che più di tutto Si è fossilizzato Sui stessi Programmi Per anni E anni Non aveva ancora Fatto la Parigi Inizia In carriera La strada è bianca Secondo me La valuta Anche in un modo Dice Come una corsa Che è bene Avere nel palmarès Ma anche se Non c'è Più di una volta Non succede niente Non essendo Una delle cose Più importanti Le priorità Sono altre E ripeto È bene Secondo me Anche cambiare Un pochino Il programma Però c'è anche Da dire Che probabilmente Quello che Se si può dire Che era un po' Spuntato al Norvaner L'anno scorso Probabilmente è stato Proprio Non correre La tirreno adriatico In sé per sé Ma il correre Per fare la classifica E soprattutto La tappa Dei muri Con la vinta Da Matteo Che alla fine Tanti hanno detto Che quella Gli è rimasta Nelle gambe Lo stesso Wanderpool Quella ha tagliato Le gambe Un po' A tutti Anche perché Stai correre col freddo Così sotto la pioggia Per tanto tempo Fai fatica Discur Molto più Che magari A farti I 35-40 minuti Di prato uditivo A tutta Perché quello È uno sforzo A cui comunque I corridori Sono abituati Lo fanno sempre A crono Lo fanno Sempre nelle tappe Dei grandi giri Farsi 75 km Tutta In quel modo È forse una cosa Che fanno solo Alla Rubea Al Fiandre Insomma Nelle corse Che si rompono Da lontano Ma tra l'altro C'è anche Lopez Al via Ragazzi E non è caduto E non è caduto E non l'Utosco Out of nowhere E non l'Utosco Controfondendo Di Colarelli La scelta sua Di non farla Invece Avrebbe stato Il naturale Favorito Per questa corsa E si Ha vinto Una pareggia rubè Però Il suo palmarès Non è così Come quello Di alcuni Dei suoi colleghi Quindi Una scelta di bianca Lui non avrebbe Fatto certo Sì Comunque Cioè Effettivamente Luzzenko Ha vinto Le ultime due gare Con lo sterrato Che ha fatto Qui in Tenermonas Potrebbe essere Un bel nome Per oggi Ma che se non Hai iniziato La torta Benissimo Salutiamo Anche Stare su Rota Che ha Veramente Una gran Gambo Per una Poc 15 Un nome Che mi piace Molto C'è anche Il nostro amico Gonzalo Serrano Sì Anche se Queste Forse Sono Gare Di livello Troppo alto Per lui C'è Michael Matthews Che veniterà Lo sprint per il Quindicesimo posto Ioris New Eluis Come lo vedi Aldi Purtroppo Come tutta La DSM Non lo vedo Bene Aveva Fatto Davvero Una grandissima Parigi Tour Ormai Un anno e mezzo Fa Però Quella Sunweb DSM Era una cosa E questa E' un'altra E' un'altra E' un tezzo Soprattutto Intanto Cico ci dice Che Matthews Dovrebbe essersi Ritirato Quindi vincerà Lo sprint E' uno che sicuramente Si piazzerà Attorno alla top ten Come sempre E Barwheel Tra l'altro Gli archi Stanno andando Molto bene E Tra l'altro Fanno un fracco Di pubblicità E comunque Su Eurosport Mamma mia Comunque c'è Ulissi Lì in avanti Penso che Lavorrà per Pogaccio Ah ecco Volevo Chiedermi una vostra Opinione Secondo voi Mauro Schmidt Potrà fare la seconda Punta Sarà proprio Gregario dedicato Di Alaphilippo E ha già lavorato Per Alaphilippo Quindi immagino Che magari La seconda punta Gliela fanno fare Asgred Anche se Asgred è una firata Anche lui Un po' Si poi Sembra un corridore Misterioso Però non so Se si Si era un fermato Alzi fuori Dalle sue gare Non sai mai Se sarà Ultracompetitivo Ha quasi vinto Un giro di California Però poi In altre corse Non lo vedi Ma poi c'è sempre Il caro Vecchio Affidabile Deveni Che ha fatto Un'ottima Vuelta Andaluzia E che sarà Deputato A stare vicino Fino all'ultimo Dalla Filippo Quindi magari Sarà lui Alla fine La seconda Punta Dalla Quixette Non abbiamo parlato Della Trex Se non sbaglio Però che non ha Una brutta squadra Ah si Molto Molto Che l'anno scorso Era Andato Molto bene Prima di cadere E poi anche Scugins Che ha una top ten Qui all'attivo Nel 2019 Ci scappa Sempre La sorpresa La jumbo Visma E lì a blocco Quindi io adesso Immagino che Sia lì per Valer Perché mi sembra Per Cus Se no Cus Bowman Cus Non è andato male Lo scorso weekend In Francia No no È andato molto bene Però non mi sembra Proprio la gara Di Cuccia Attila Walter Ci chiede Il Fabri Attila Walter Ha iniziato male La stagione Per ora Non sta andando forte Quindi non mi aspetto Grazie Credo che L'ha perfetto La stessa La gruppa Ma di non portare Pasher Per tintare Praticamente Tutto su Pino E Un po' di curiosità Ce l'ho per Aschi È Crossista Comunque Dovrebbe Trovarsi a suo agio Su questi strati Ma Per vedere L'ultimo mondiale Under 23 Però Sia sempre L'aspettativa Non sono mai Troppo alte Ah più che altro Anche Angodou Non l'avrei visto mai Con lo strappo Comunque Possibilmente Uno dei più competitivi Godou però In Francia Il legueglio Sì Si è schiantato Insieme a Battistella E gli altri Sì E voleva fare La parisinizia Ah quindi Non vogliono fare Il viaggio In un solo giorno Eh sì sì Immagino di sì Scusate Vado a vedere Un attimo Ma domani Non c'è Il Gran Premio Industria Artigianato C'è No Io non l'ho visto Che palla A me piaceva Come cosa Ma non la fanno Proprio quest'anno Sì Penso che con Con la Fierrena Che comincia lunedì Proprio non ci sia Materialmente Il tempo No Ah per me Mentre hanno spostato Qualche altra data Non so Non sono un grande fan Di questo anticipo Della Fierrena Questa è acqua Lo dico La signora Fice Tra l'altro Se poi conti Lo spostamento Della Della Milano Torino Quella è davvero Una cosa che Cioè era Una delle corse Con la Stardis Migliore Che c'era in Italia Sì esatto Da Milano Torino E tra l'altro Aveva anche un arrivo Che stava diventando Iconico In un certo senso Perché sai Proprio La corsa Per gli scalatori Non l'ho proprio Capito Questa scelta Volendo Ci sarebbe stato spazio Per riportare In vita Corse Che si erano viste Sempre in questo periodo Come la Roma Maxima Giro dell'Arto Che chiamano un po' Come vuole Le rubinetterie La necessità Di cambiare No Ma una gara storica Dal Giro dell'Arto Roma Maxima Roma Maxima Cazzarola Ma anche Potevano anche Spostare il Gran Piemonte Già che c'era Comunque Avevano una corsa Che aveva Un carattere diverso E metterla prima Nella San Re Sarebbe stato meglio Perché anche lì Perché cambiare Nome da Giro del Piemonte A Gran Piemonte Perché chiamare Il Lombardia Acquarone Però nel senso Il Lombardia È una cosa Che dico anch'io Cioè non dico Il Giro Lombardia Parlando con voi Dico il Lombardia Però il Gran Piemonte Sembra un formaggio Si guarda che ho Allora È il nome colloquiale Però è diventato Il nome anche formale Di una corsa Che è il Giro Di Lombardia Da 115 anni 116 anni Insomma Non so Però Gran Piemonte Sembra il nome Di un formaggio Ed è terribile Veramente Valverde Lo vedo bello Convinto Allora La Filippe è lì Pogaccio Era un po' Più dietro Giubovisma Sono sempre In tanti Ecco Noi avete Sono su Eurosport Dove stanno Limando Stanno Limando Per prendere Il prossimo Tratto di Serrato In testa La F Che Aspetta Che controlliamo Ma c'è Guerreiro E Valgren Valgren Prima Dopo che era anche Lutero In testa Al gruppo Mi sembrava Perasse Recentemente Certo che lui È uno che Dipende Da come si sveglia Alla mattina Esatto Poi Guerreiro L'anno scorso Nella tappa Degli sterrati Al Giro Era andato Davvero Da paura Era tutto Un periodo Quello di Inizio Giro Prima che Cadesse Che Aveva una Gran Gamba All'UAE Non è andato Male Anche è andato Molto bene Sul primo arrivo In salita Sul secondo Un po' Meno E a me C'è un nome Che piace Un sacco Piace sempre Però Inspiegabilmente Nelle corsi Di un giorno Non riesce A trovare Ancora Risultati All'altezza Del suo talento A differenza Che Nelle Nelle tappe Nelle corsi a tappe Cioè Sergio Dita Che Tecnicamente Sarebbe Perfetto Per una Corsa Come questa Ha anche Un bello Sprint È Esplosivo Sa Stare In gruppo A differenza Di alcuni Second nazionali Tipo L'Oca Però Non so Perché Nelle corsi Di un giorno Di un giorno Ancora A parte Un decimo Posto Non Un decimo Posto A Lombardia Dell'anno Scorso Ma Per grandi Distanze Dai primi Non Non riesce Proprio A Andare Forte No Fabri Il drink And game Vale Solo Se Dicono Se Un Telecronista Dice Sesto Monumento Per ora Non risulta Che l'abbiamo ancora Detto Quindi dopo 40 minuti Di live Siamo ancora Siamo delusi Siamo delusi Ma si Dicono Terza Monumento Che Si Dicono Scusa Terza Monumento Eh no Devo dire Sesta Monumento E devono dirla Gregorio Magrini Pancani E chi C'è insieme a Pancani Altrimenti Non vale Perché Abbe Non so Se hai visto Ieri Dan Lloyd Di CCN Ha postato Sì Sì Me l'ha fatto Brutta cosa Dai Che c'è il Monte Sante Maria Adesso la gara Ma quella lì Voglio Voglio Credere Voglio Sperare Che fosse Una pescata Di Proporzioni Etiche Gregorio L'ha detto Inizio Telecronica Sì L'ho sentito Anch'io Che l'ha detto Telecronica Se volete Possiamo Inaugurarsi Con un Aspetta Che Non Poi Il Cavatatti Non Ah eccolo Qui Scusate che devo cambiare anche il canale intanto perché Ah dobbiamo cambiare il canale? Vanno sul 2 mi sa tra poco E allora Ragazzi Andiamo Aspetta Che c'ho l'acqua nel bicchiere Alla salute Che roba Buonissimo Compratelo Compratelo Che magari si abbonano al canale E' il nostro nuovo sponsor E' il nostro nuovo sponsor Il Bonollo Paolo Paolo Bonollo E' tanto che questi iniziano C'è la tipa di Game of Thrones Che fa la pubblicità Quindi se ci muoviamo Ragazzi Eccoci qua Siamo sul 2 Spallo Vai Ci sono Ecco Adesso devo buccare Un po' io la pubblicità Ah A proposito di io Che sembra Alex Varci No a proposito di io Che sembra Alex Varci C'è la pubblicità La Pinguì Alex Varca Campione olimpico Di marzo Non mi alleno E' che ha la pesca Questo Signor Twitch Eh no No Giovanni E' buonissimo Questo amaro Bonollo Mamma mia Proprio una delizia Tra l'altro Ho anche un po' di mal di gola Speriamo quanto meno Quello lì Ammazza tutto Tutti i batteri Che si annidono Nella tua gola Ovunque Tratto in serrato C'è in testa Un uomo sudal E stanno per riprendere Fuggito Un uomo sudato Un uomo sudato Anche No Perché magari Ma è che sono sudati Magari stai sguardando Qualcosa di diverso Spallo Hai sudato Poi non ti sei coperto Adesso è raffreddore E' colpa del gatto Perché vado fuori a giocare Con il gatto Comunque Forse il mio gatto dorme Guardalo Clark Lì davanti Bello come il sole Dai Clark A darci sta soddisfazione C'è anche Uninius Con Turner A ruota Non so chi sia Un bel corrigore Ecco alla Filippe Vellens Pogacar è rimasto Un po' dietro Sì Dovrebbe esserci Cosnefrois Il jumbo Visma che va così bene Sarà proprio Vader Immagino Valverde lì Eccolo là Pogacar Che torna su Ma a me sembra Vader Non è sicuramente Cus Dovrebbe esserci anche Carlos Rodriguez Forse Cus è il primo Dei due Carapaz Anche davanti Perché ho visto La bici Dorata Bravo Vai Simon Vai Simon Dai Simon Bravo Dai Quanti l'abbiamo Al Panta Simon Clark C'è anche Ragazzi Anche Narvaez Perché vedo Il nostro Doriano Asgred è ancora lì Dovrebbe esserci Bilbao Comunque Si è Asgred Scorlino Montessante Maria Bisogna farci Insieme ai migliori Bisogna farci Il segno della croce Per le classiche Del nord Perché Con l'aumento Della Distanza Può solo Che migliorare Partito Male È vero Come ha scritto Cigo Prima Nei commenti Si dice Che abbia I migliori dati Di centro Danny Bar Che immagino Ti stia chiedendo Di Queen Simmons Che l'anno scorso Andò molto forte E' andato bene Alla Don Class Quindi io me lo immagino Comunque abbastanza In palla Non so chi sia Il Treckli Ce n'è uno Nelle prime posizioni A ruota livelli Beh Barbarossa C'era il Barade Era Peio 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 Con Velles C'è facile È facile riconoscere Peio Perché Va sempre Al Gisalda E poi c'è anche Tratnik Che mito Tratnik Che panzer Ma comunque c'è anche Peglio dietro Però sono in tanti Sono in tanti ancora Sì è anche vero Che questo è lungo Quanto 12 km Di settore Quindi Eh questo è l'ora Forse ne hanno ancora Velles Rinancio Adesso Clark Mamma mia Che gamba C'è ancora Serrano C'è Merse Del Grazie Questi si sono Sponsor Mi dicono Che è molto buona Adesso la tua tavola Domani mi apro Vabbè se volessi Per fartela assaggiare Devo dire Sesta Monumento Ecco un po' Cacciare intanto Ecco un po' Cacciare che passa In testa No questo lascia Perché se dicono Ancora Sesta Monumento Mi tocca a me Ecco un po' Cacciare che passa In testa Intanto col gruppo Che si inizia a spilacciarci Effettivamente Poi c'era La Philip Velles Simon Clark Lento molto forte Questo attacco Lento molto molto forte Adesso mi apro un canale Twitch dove a turno Bevo qualche alcolico Per fare pubblicità Vediamo magari Mi pagano di più Che parlare Sono veramente rappresentati In blocco Guarda Sì Comunque Qui Simons Sta andando molto molto bene Van Avermaet Ci saluta Eccolo ancora Eccolo ancora Fogacar Fogacar Super nice Guarda C'è un timone Ragazzi Dai Clark Forza Sì Comunque Gran manico Anche Pogacar Anche perché Campione sloveno Di ciclocross Di ciclocross Sono venuto prima di me Esatto Esatto Mamma Rai un po' indietro Vabbè con i loro tempi Però Eh qua Poggi 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 ha preso Una trentina di metri Ecco gli spoiler Adesso sto vedendo Che sta Sto prendendo La tele mi chiude C'è Clark C'era Clark In seconda posizione Ma si è fatto Un po' sorprendere E non ha comunque Le capacità Di conduzione Del marzo Di Pogacar Alla FIIP Sta per chiudere Però Anche se qui Che la strada Torna a salire Alla FIIP Farò un attimo In più difficoltà Di Pogacar Occhio Comunque Siamo stati Facili profeti Prima Di occhio Che Pogacar Infatti Ha ripreso Vantaggio Pogacar In salita Mi sa che Non amarsi In più Però Comunque Non credo Credo Che questa Questa Un'azione Più volta Ancutere Timore Di avversario Carlos Rodriguez Prova a chiudere In prima persona E ha allungato Sugli altri Ma Cus Comunque È il Jumbo Davanti Jumbo Jumbo Ma dietro Sono tanti Secondo me Ancora Situazione Molto Indivenire Occhio Che Rodriguez Beh Sarà Un bel Tandem Pogacar Rodriguez Difficile Andarli A prendere Se scollinano Siamo Ancora Lontani Comunque Dalla Scollinamento Però Rodriguez È rimasto Da solo In Non lo so Perché mi sembra Il tiro Indle Però sono No Comunque Quello Mi sa Che è proprio Carlos Rodriguez Cioè Turner È alto 1,90m Con te Poi mi sa Che ha gli occhialoni Sì Anche a me Sembra Carlos Turner È Gigante Anche a me Sembra Carlos Mi sembra Che sia Il Pogacar Quello Dei Dei Giorni Tipo Le Gran Bonnard Eh Bonnard Quello Che è Madonna Solo Solo Rodriguez Forse Può Pensare Di Rientrare In questo Moment Perché Veramente Cioè La Filippa Era Arrivato Tanto Così La Stalada È Tornata A Impettarsi E Lui È Volato Via Sì Si Si Proprio Piantato Sono Gli Strapponi Alla Filippa C'è Anche a Dire Che La Filippa Ha Preso Una Bella Botta E Adesso Anche Il Bonn Carlos Rodriguez Perde Eh Però Sai Se sono Così In tanti Dietro Perché Non Sono Pochi Non Sarebbe Meglio Aspettarlo Sai Rodriguez Non è Un cattivo Passista Andare Via In Coppia No E Soprattutto Avere Rodriguez Permetterebbe Di Inattivare La Superiorità Numerica Del Vino Troppo Non Deba Avere Paura Di Poi Benveni A Questa Azione Grande 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 Per Me Qui Peloton Dato A 20 Secondi E Rodriguez Avevamo Ragione Noi Rodriguez Cano A 14 Secondi Se Scoglina Secondo Me Ciao Ciao Anche Perché Chi Dietro Può Una Squadra Che Dietro Può Organizzarsi Per Andare A Riprenderlo Lui C'era L'attacco Da Questa Distanza L'abbiamo Visto Un sacco Di Altre Volte Tra I Pro E Under 23 Sì Sicuramente Credo sia La Prima Volta Che Non Lo Fa Con La Pioggia Eh Sì Però Fa Molto Freddo Quindi Davano Tre Gradi Quando Inizia La Tras C'è Anche C'è Anche Tanto Vento Dietro La De Koenig Lavora Con Al Gre Di Maggio Però Allora Alla Philippe Non Credo Che Abbia Deliberatamente Scelto Di No Alla Philippe Si può Di Perché L'ho Visto Davvero Piantatissimo Eh Ma Guarda Come Sale Ma Comunque Dietro Sono Tanti Sì Sono Tanti Volevano Organizzarsi Sono Tanti Volevano Organizzarsi Lo Pensa Lui Ecco A Lui Portarsi Inizio Carlos Rodriguez Potrebbe Far Comodo Il Problema Che Carlos Rodriguez Allora Asgrem Cus Simmon Si Trinta Che Bravo Comunque Rodriguez Marvales È Veramente Una Marcia In Più La Stana Sembra Lopez Sinceramente O Velasco O Lopez C'è Velasco Si Allora Potrebbe Essere Sembra Strano Però La Stazza È Semile Secondo Me Dovrebbe Se riesce A portarsi Via Rodriguez Vanno Loro Due Dietro Lai Ines Non Tira Sono Tranquillissimi Se Vada Solo Non È Facile Non È Facile Per Tra Gli Altri Non Sappiamo Neanche Qual È La Condizione Del Vento Se C'è Vento Contro È Difficile Sì Oddio Diciamo Che per fortuna Poi Il problema Per il Vento È Tanto La Parte Centrale Perché Poi Quando Arrivano Intorno A Siena È Riparato È Sì È Proprio Questa Parte Che C'è Tra Tra La Fine Di Monte Santamaria Successivo Trasso Di Sterrato Che Per Un attaccante Solitario Risca Di Essere Deleteria Il Buono Però Dal Punto Di Visto Di Poga C'era Che Sai Avendo Tanti Mangi Bevi Non È Come Avere Tutta La Pianura Non È Non Facile Organizzare Un Esatto Non È Facile E Non Credo Ci Sano Anche I Numeri Dietro Per Organizzare Un Sedimento Oddio Fino Sulla Sterrato Difficile Capire Sai Con Le Moto Comunque Se Fanno Braccio Di Ferro Pogaccia Rasgren Sicuramente Lo vince Pogaccia Anche Se Braccio Di Ferro Pogaccia Rasgren Perché Asgren Non Lo So Carlos Rodriguez Per Dire Che Comunque Si Sta Giocando Tutte Le Sui Schance Adesso Si Rodriguez Si Bruzza Un Po Adesso Forse Si Rialza Penso Che Venga Messo A Lavorare Per Narvaez Spera Anche Perché Sono Al Fanto Comunque Parliamo Anche Di Un Corridore Che Ha Neanche Quindi Siamo Lì Si Era Un Po Sì Su Passaggio Dagli Junior Subito Alla Ineos Perché Non Era Maturissime Infatti Comunque La Terza Stagione Questa Tra I Pro Però Alla Fine Sono Riusciti A Svettarlo Abbastanza Bene Stanno Andando Forte Magari Sai Anche Un Po Accelerato La Preparazione Per Andare Subito Forte Inizio Sotto E Pro Stava C'era Una Gran Bella Andata Poi Sugli Sterrati Chiaramente Una Marcia In Più Perché Alle Queglia Un Po C'ero Rimasto Quando C'era Staccato Su Colla Micheli Invece Qua Brillante Come Lo è Stato Anche La Valenziana No Penso Che Dopo Il Tour Della Venere L'anno Scorso Abbiamo Fatto Un Bel Salto Di Qualità Si Può Essere Comunque 30 Secondi Sul Gruppo Per Pogaccia Comunque Non lo so Se fossi La Inos Nel caso Rodriguez Venga Ripreso Di Metterlo Subito A Lavorare Così Sai No No Non 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 No Così Qua Secondo Voi In Questo Gruppo Qua Io Non Ho Visto Van Avermaet Si Staccava Perché Aveva Il Dorsale 11 C'è Il 16 Vediamo Che Dal 16 Vedrà Un Bravissimo Andrea Vedrà 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 Un altro Bel Nove L'abbiamo Un po Ignorato Perché Ha Cosne Pro In Squadra Perché Van Avermaet Che Non Si Fa Mai Da Parte Però Vedrà Bellone Anche L'arrivo A Santa Caterina Come si Chiava L'arrivo Aspetta Caterina Molto bravo Albanese Santa Caterina È Un bel Nome C'è Albanese C'è Scusi Prima Che Ho Nominato Il Bor A Me Sembra Troppo In Siete 20 20 Persone Collegate Insieme Quindi Vi Ringrazio Ovviamente Visto Che Ci Siamo Vi Ricordo Che Sono Siete Iscritti Al Canale Iscrivetevi Al Canale È Gratis Siamo Arrivati A 90 Iscritti Abbiamo L'obiettivo Di Arrivare A 100 Direi Per Le Classiche Del Nord Vi Ricordo Che Nella Homepage Nel Nostro Canale Twitch Trovate Link A Tutti I Nostri Profili Social Facebook Youtube Dove Carichiamo Alcune Live Ovviamente Ricaricheremo Anche Questa Instagram Twitter Mettiamo Sempre Gli Orari Delle Live Quindi Seguiterci Anche La Così Ci Seguite Ancora Meglio Abbiamo Aperto Anche Il Nostro Sito Web Adesso Ve lo Link In chat Vi Ricordo Che Se Volete Darci Una Mano Supportare Il Amazon 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 Prime A Twitch Vi Abbonate Nel Nostro Canale L'abbonamento In quel Caso È Sostanzialmente Gratis Perché Siete Già Abbonati Ad Amazon Prime Quindi Noi Siamo Poi Un Ramo Di Prime Adesso Vi Metto Il Nostro Sito Web In Chat E Tanto Che Pogacar Sta Letteralmente Prendendo Il Volo A 25 Secondi Su Rodriguez Sul Grupo Credo Ormai Abbiamo Quarantina Di Secondi Tra l'altro Gruppo Che Si è Ridotto Penso Una 25 In A Mi Sembrava Di Vedere Dall'alto Mi Sembrava Anche Che Ci Vossero Tre Track Con L'ultimo Proprio Davanti Un Problema Meccanico Qua Si è In Tata La Catena Comunque Ale Mi Scrive Che Sono Due Gli Acceso Sermani Non Soltanto Io Ho Visto Quello In Coda Che Era Che Era Davanti Un In Coda Allora Credo Che Tra l'altro Cioè Lui Ha Uno Stile Un Po Particolare Se Vogliamo In Bicicletta Ricorda Abbastanza Tony Rovinger Anche Se Una Vota Gli Assomigliava Un Po Di Più E Ci Vogliamo Un Po Assimile Anche A Van Der Cioè Trassuda Potenza È Magari Meno Elegante Di Un Van Aert Però C'è Proprio Tutta La Potenza Che Riesce A Spingere Sui Pedali E Sì Anche Piuttosto Alto Col Busto Non È Super Aerodinamico Però Al Tempo Stesso È Molto Compatto Anche Diciamo Che Mi Più Massiccio Una Parte Alta Del Corpo Rispetto A Tanti Suoi Colleghi Odierni Inquadrato All'alto Adesso C'è Anche Un Minuto Un Minuto E Sei Secondi Ecco Diciamo Che Se Lo Confrontiamo Col Suo Rivale Roglic Roglic È Più Compatto Più Altrettanto Potente Però Meno Direi Nervoso Cioè Più Silenzioso Che Potente Però Più Elegante Invece Pogacere Proprio Speed Sui Pedali Vedi Che Proprio Gli Vuole Spaccare Quei Pedali Se Questi Distacchi Sono Giusti Rodriguez Ha 30 Secondi Sul Gruppo E Ci Leviamo Il Cappello Vai Spallo No Dicevo Mi Però Forse Si Arriva Onore Sinceramente Onore Può Essere Sono Abbastanza Ciro Un minuto Tanto Un minuto Si E Tanto Di Cappello Veramente Rodriguez Che Sta Perdendo Poco Da Pogaccia Bisogna Vedere La Veridicità Dei Distanti Sì Perché RCS Sono Sembra Un po Così Però Effettivamente Sembra Di Vedere Una Versione Sugli Sterrati Senesi Di La Cosa Lì Insomma Con Il Naso Tappato Non Riesco A Dirlo Però Abbiamo Capito Insomma Sì Prima Lo Dice Si Pogaccia Più Composto In Pogaccia Poi Comunque Pogaccia È Bello Da Vedere Cioè È Bello Da Vedere Anche Quando Spinge Anche Se È Uno Spire Particolare Pogaccia È Uno Che Ci Sa Stare In Pici Non È Haru Per Capirci Guardatelo Adesso Adesso Che Non è Più In Salita Fermo Sulla Sella Elegante Tutto Quando Deve Spingere In Salita Proprio Questo Modo Che Ti Trasmette Tutta Cioè Lui pedala Seduto Ma Anche Con I Rapporti Lunghi E Quindi Poi Ha bisogno Di Usare La Al Corpo Per Bilanciarle Rispetto Roglic Quando Roglic Sta seduto È Più Uno Che Va Di Agilità Rispetto A Pogaccia Comunque A guidare La bici In Quest'ultimo Tratto Era un Pochino In Difficoltà Rodriguez Rispetto A Pogaccia Beh Rodriguez Non è Pogaccia Sarà Anche Una prova discreta Di là di Carapazza Anche perché Ha avuto Problemi A inizio Stagione Poi Lui Ci mette Sempre Un po' Ingranare La pubblicità Tra l'altro Oggi Altre gare Sì Ho Invece La strada Bianca Femmigile Che Abbiamo detto Bellissima gara Gran bel finale Con Kopecky Che è riuscita A beffare VanVloitel C'è stata La Bloizone Friesland Che è una gara A tappe Nellandese Sempre femmile Ultima tappa Vita D'Archelle Barbieri Suelle Van Dyke Gare Uomini Professionisti C'è solo Grand Prix Gazzipase In Turchia Poi da domani Inizierà Una settimana Bella Dessa Sì Comunque Bello il finale La strada Bianche Donne Però Cioè Io non capisco Perché Non mettono La telecamera In cima Via Santa Caterina Cioè Sono due anni Di fila Che rischiamo Di perderci Il momento Clu Della corsa Tra La regia Ha fatto Uno stacco Davvero Degno De Bella Vuelta Catalunna Sul Sul Veso Del Signore E poi Su quella Che Varta Mamma mia Che robaccia No no Ma proprio lì Dove Dove Fanno il muro Tra l'altro Io ci sono stato C'è davvero Ripidissimo Fidatevi E poi c'è una fontana Giù con i pesci Nella piazzetta Al sotto Dove parte La via di Santa La salita Se siete appassionati Di Ittica Primo È appassionato Di Ittica Sì È un pescatore Cioè Gli piace Pescare Gli piace Il pesce Gli piace Un pesce Dai Qual è Lei che Doi primo Comunque L'Udinese Sta battendo La Sampdoria 2 a 1 Se vi interessa Alle 18 C'è Roma Atalanta Beh Forza Magica Riuscirà 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 Muridi A vincere Un big match Quest'anno Con l'Atalanta L'abbiamo vinto All'anno È vero E saranno state Anche proteste Con Gasperini Mi piacciono I pesci E gli uccelli È certo che Primo non mi aiuti Scrivendo queste cose E dai Su Poi ragazzi Dare un minuto In una decina Di chilometri È una cosa Che Più di un minuto In una decina Di chilometri È una cosa Che solo Gli eletti Possono fare Nel caso Ci fosse bisogno Di un'ennesima Proa Allora Il gruppo Dietro È veramente Nutrito Penso Ci sia una quarantina Di corridori Che è uno scenario Che comunque Avevamo pronosticato In questi giorni Parlando nel gruppo Di Whatsapp Su chi mettere In squadra Nel fantascipismo Avevamo Previsto Una cosa Che è bloccata Rispetto agli ultimi anni Però l'unico Che poteva sbloccarla La sta distruggendo Eurotort Fa un sacco di pubblicità Per far vedere Che ha spazio Per fare pubblicità Perché poi Fa pubblicità Della track Champions League Che insomma È finita Non sappiamo neanche Quale sarà la prossima Comunque Quaranta chilometri Arriva Un minuto e dieci Hai voglia Secondo me A riprenderlo Anche perché Ok dietro Sono tanti Ma le energie Quanti sono E poi Come si organizzano Per ora Il pallino Ce l'è in mano La fixetto Che sta facendo Tirare altri In un'ora E prima Da tanto Una passata La filip Sì Dovrebbe stare Il più possibile Coperto Magari può Può avere Un passaggio vuoto Lui Sì L'anno scorso Lo ebbe E appunto Lo ebbe Sulle tolse Sì Tra l'altro Adesso In realtà Sono proprio tanti Adesso Ci saranno 40 Però C'è la filip Davanti Sì Penso Che sia Rientrato Un gruppo Adesso Inizio Questo tratto Che È Il problema Delle strade Bianche Cioè Questi 20 Km Di Nulla Totale Che Ammazza Un po' La gara Se In questo Caso Saranno Anche Interessanti Tra Virgolette Interessanti Perché Comunque Non è Che Succederà Nulla Di Che Però Per Capire Se Pogaccia Tiene Se Pogaccia Non Tiene Pogaccia Ragazzi Veramente Comunque Zambanini C'è Ancora Che Prima Adesso Nello Primo Che C'è Zamba C'era Anche Valgren Andersen Prima Dizia Una Roba Intelligente Demoralizzati Staccati Così Facilmente Che Adesso Devono Anche Tirare Su Un Po I Cocci Dietro Il Distacco Di Rodriguez Si è Stabilizzato Intorno Ai 35 Con Un Pochino Di Stacco Salendo Pi 40 Secondi Lavora La La Trek Si è Messo Anche Un Uomo Della Movistar E La Filippe Una Persona Sopra Tutto Se Filippe Se Che sta Facendo Così Perché Evidentemente Sa Che Non Ha Più San E Quindi Vorrà Mare La Poga Probabilmente Sa Anche Che Qualcosa Non Stor Tanto Di Possione Fantastica Probabilmente La Filippe Anche Conscio Il Fatto Che Se Lascia Uno Re Contro Poga Certo Non Va A Finire Bene Quindi Quando Arrivi A Invece Ci Dice Anche Lui Che Se Effettivamente La Filippe Sta Lì Perché Non Sta Correndo Per Sè Però Appunto Per Chi Corre Che Ha Fatto Lavorare Poi Ci Può Stare Anche Ha Fatto Una Caduta Incredibile Tanta Manna Che Ancora In Gara Asgrave Forse Anche Asgrave Prima Tirava Onore Onore Potrebbe Essere Onore Onore Adatto Anche L'arrivo Finale Ed Adatto In Generale A Questa Gara In Dato Poga Sarà Un Km Quattro Di Vantaggio Sul Gruppo Un Km Su Rodriguez Perché Devenis Si è Staccato Schmid Non Credo E Non So Neanche Se Sia La Davanti Non Mi Sembra Di Averlo Visto Sinceramente Sapete Secondo Me Questa Grafica Con I Km Adesso Sballato Completamente Però In realtà Una grafica A quei Km Di Vantaggio Potrebbe Anche Essere Più Interessante Rispetto A Una Grafica Col Minutaggio Però C'è da Dire Che Su Mangia e Bevi Così Sai Ti Trovi La Distanza In Tempo Più O Meno Ti Cosa Cosa C'hai Messo Perché Vorrei Che Ci Disesi Eh Ho Il Don Perignon Della Mia Tenuta Sul Lago Maggiore Invece È L'attenesquico Voglio Dire No L'attenesquico È per i Per i Giori Importanti C'è L'acqua Fizzante Farci Pezzi Beh Mi sa Che Quella Cosa Delle Monumento L'hanno Un po' Lasciata Decadere Eh Purtroppo Non vogliono Vedere Ci Ubriachi Magari C'è Un Dario Cataldo Che Tira La Filippo Aspetta L'ammiraglia Comunque Ci Sono Due Uno Mi Sembra Con L'ammiraglia Comunque Effettivamente Parliamo Un po' Di The Step Cioè Quest'anno Sono La Tra virgolette Peggiore The Koenig Probabilmente Di Sempre Per le Classiche Del Nord E Vincono Lo Stesso Incredibile Perché Sono Quelli Dell'anno Scorso Praticamente Ma Stibara Un Anno In Più L'Ampire L'Ampire Asgred Non è Detto Becchi Con Lo Stato Di Forma Al Philippe Non Farà Il Piandre In Aspetterà Darli Per Morti Perché Secondo me Asgred Sarà La Loro Carta Principale Per l'altro Non c'è Ancora L'anno Scorso Asgred C'è Veramente Avuto Una Stagione In Cui Mi Era Abbacciato Il Signore Credo Che Si Ripeterà L'Asgred L'anno Scorso Il Fiandre Valeva Van Aert Adesso C'è Serri Che Tira Full Sang Che Cot Clark Clark Sono Tanti Sono Tanti Ma Perdono Perdono Lui ha Un minuto E mezzo Adesso Adesso Comunque Ancora Discesa Be male Strada Che Scende Quindi Ancora Favorevole A Pogacar Sergi Vita In Coda Con Albanese E Val Gli Altri Si Sono In Tanti Pro Adesso Comunque Comunque Come Ha un taglio sul braccio Pogacar Fateci caso L'aveva Notato anche prima Spallo Che era caduto Si si ma Pogacar era Proprio a ruota di Alaphilippe Quando sono caduti Secondo me E' caduto anche lui Ma Ha fatto un volo Mene Alaphilippe Che è finito con la testa sotto Per due o tre volte E si era alzato subito Infatti dopo Due o tre chilometri Era rientrato nel gruppo Dove c'erano avanti Il miglior amico di Albi Se non Clark E gli altri Però guarda anche Tu l'hai già visto Probabilmente Guarda anche la schiena Come tutta sporca Si è caduto Ci sono anche tanti Arkea Con Barguil Che comunque è adatto E l'Arkea Che continuano ad andare forte In questo squadro Che non ha senso Che prendano in mano La corsa Perché non hanno Il favorito Ecco Quello che sta facendo Adesso la Moni Sarà senso Perché se riprendessero Pogacar E ci impiantano Ipotesi remota Ma comunque Come direbbe Grande Noaro Potrebbe succedere Valverde Come sta andando Sul muro finale Ne ho davanti pochissimo Si stavo pensando Agli Arkea Che potrebbero avere Il buon Clement Rousseau Che adesso deve cambiare Il cognome In Clement Ucraino E avranno sicuramente Gesbert A Clement Rousseau Ora sembrerebbe Che Pogacar Inbattato ci sia Un attimino Crittallizzato Sempre questo Un minuto Però è tanto Tanto Sì Tanto Tanto Adesso Tra quanti chilometri Iniziano Le tolpe Penso ancora Una vicina Abbondata La dottina Di chilometri No Le tolpe No Mi riferivo A quello Prima Che cos'è Colle Pintuto Ah Colle Pintuto Sì Sì Dovrebbe Dovrebbe Essere A 22 All'arrivo L'immaginetta Su Forsaking È piccolino Io non C'ho Tanto Bene Quindi Prendetelo Un po' Con le pinze Dovrebbe Inserire Verso 22 Dall'arrivo Fogaccio Ha fatto Fiandre Vero Eh Sì 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 Fa il fiandre Fa il fiandre Sarà un brutto cliente Anche al fiandre Se andiamo a vedere Pogaccio Ha fatto Nel 2020 La prima strada Bianca Non anche nel 2019 Ha avuto bisogno Di un paio D'anni Di rodaggio Poi 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 l'anno scorso Era lì davanti Però alla fine Nel finale Era un po' Quello meno brillante Oggi invece Proprio un tornado Anche se ora L'antaggio Sembrerebbe essere sceso A un minuto 22 E questo tratto qui Invece Così in leggera salita Non è simpatico Per Fogaccia Se poi lui è Fogaccia Quindi un po' Se ne frega Rispetto ai comuni mortali Sì Anche perché Non ha certo paura Del buon Dario Cataldo O di Serrano Per dire Sì Bisogna vedere Se poi magari Qualcuno ne avrà Sulle solfe Per fare un'azione Per provare Ad avvicinarsi Molto duro Il problema è che Quasi tutti i big A parte la felice Ci sono tanti Outsider Però in questa situazione Chi è che può fare Un'azione Per Andare a chiudere Su Fogaccia Se Fogaccia Per dare un altro Po' Alle solfe Sì ma poi Il tuo outsider Preferirebbe sacrificare Le tue chance Di podio Comunque di top ten Per l'improbabile Primo posto Chi te lo fa fare Adesso le moto Abbandonano Rodriguez Che comunque È un peccato Un peccato Divanare Divanare Punta Un peccato Non vedere oggi Piedoc Che sarebbe stato Un avversario interessante Allora Secondo me Sarebbe stato staccato Comunque Però almeno Nella prima parte L'attacco di Fogaccia Che è stato basato Più sulla tecnica Che altro Capito Perché gli sarebbe Stata ruota Oppure addirittura Sarebbe stato davanti Perché non è certo Secondo a nessuno Dal punto di vista tecnico Poi Magari Straordinaria Comunque Di Fogaccia Per la Povertà Rispetto agli ultimi anni Della start Perché verrebbe facile Da dire Avrebbe staccato Anche Vanarte E Van Der Poel Visto che l'ha fatto Con Alaphilippa Non dimentichi anche Alaphilippa Ha fatto un backflip Pochi chilometri Poche decine di chilometri Prima Della partita Diciamo che Quel punto lì È proprio Il punto più adatto A Fogaccia Perché è una salita lunga Alla fine Cioè Non è neanche Troppo lo sforzo Di Van Der Poel E Van Aert Alla fine Poi sai Non si sa mai Cioè il Van Der Poel Dell'anno scorso Volava E Non ha Difficoltà Neanche lì E poi appunto Che Se Al Via C'erano Van Der Poel E Van Aert Magari qui avevano Compagni per organizzare Un altro tipo di inseguimento Tenevano Pogaccia Era 30 secondi Sulle tolpe Van Der Poel Faceva la sua accelerazione Se lo andava a riprendere Di poco Comunque c'è Cleman Ucraino C'è Cleman Ucraino Bene 30 chilometri Al traguardo Vantaggio di Pogaccia Sempre un minuto e mezzo Rodriguez Fa un minuto Dai Giovanni Non so se Secondo me Dovrebbero trovare Trovare qualcosa Da mettere qua in mezzo Perché la corsa Così Si appiattisce Lo dico da tanti anni C'è questo tratto Il problema di questa gara È sì il chilometraggio Che Con 50 chilometri in più Comunque sarebbe un'altra cosa Sarebbe una classica vera Però c'è anche questo tratto Qui così In mezzo Allo spettacolo Metti questi 20 minuti Di nulla Che un po' Ti Ti addormentano Poi sai L'anno scorso C'erano davanti Tutti i big Quindi Vivi un po' La tensione Dello scontro Del momento di studio Prima Delle botte pesanti La quiete Prima della tempesta Quindi Te la godi Anche un po' Di più Qui che hai un po' Pogacar davanti Col gruppo dietro E non vedi praticamente nulla Se non gente Che va forte in bicicletta Un po' Ti annoi Sì Diciamo che anche C'è un'eventualità Un po' Così Che ti trovi Il Pogacar Che ti stacca tutti Sì Però Se fosse Pogacar Che ti stacca tutti Oggi avremmo visto Questo gruppo Di 50 corridori Che andava dietro A Carlos Rodriguez Ma è ancora Sì Quello è vero Cioè Rispetto a un fiandere Il fiandere Proprio nella sequenza Di muri Possono essere tutti Decisivi Qua è più C'è questo intervallo Comunque stava finendo Nei cipressi Poga C'è La curva prima Eh io ho ancora pubblicità Perché Samuel E Samuel Ci chiede se Rodriguez Per noi può arrivare Io temo si stia cuocendo No Io temo si stia cuocendo Perché Si intende Arrivare Può arrivare Nel senso Può Stancarsi Può tenere Io temo Temo si stia cuocendo Perché Comunque mancano ancora Diversi tratti duri Diversi tratti di serrato Pogaciale Pogaciale A un minuto e mezzo Rodriguez Con 30 secondi Se tipo dietro Valverde Fa un'accelerazione E gli mangia In un attimo Probabilmente Sì La cosa che potrebbe Se ci arriva Allo serrato davanti Sì Quello è Però La cosa Per cui potrebbe Essere utile Rodriguez Adesso è Se riesce a mantenere Questo discreto Vantaggio Fino al Al prossimo settore E poi Va via magari Un gruppetto Di 3 o 4 Con dentro Uno Skype Possibilmente Narvaez Lui potrebbe Fare la tirata Fino al settore Risterrat Dopo Magari potrebbe Servire a Quello Però appunto Non è neanche così Scontato Che non lo riprendano Prima O a metà Nel prossimo Settore Tanto io Ho la pubblicità Di Ronny O'Sullivan Il L'uomo più Anchiato Dal 90% Dal 95% Degli spettatori Di Eurosport Perché Tutti quelli Che non sono interessati Allo snooker Devono vedere Se ogni volta Questa pubblicità Guardanti Sennò Comunque Il distacco Nonostante Tirino In due Dietro Rimane costante All'1.40 Sì Ma anche Che chiacchiettino Sono due Che non fanno Mezzo Pogaccio Lentamente Il vantaggio Sale Perché adesso È quasi 1.40 Invece Rodriguez Si va avanti Così vinse Con tre minuti Vediamo un po' Come andrà Sui prossimi Tratti Di sterrato Perché chiaramente E poi C'è anche Da considerare Comunque Un altro Fattore Sephora Ma no Da Coverino Sì Ma dicevo Proprio Che non è Chiusa Non è Ancora Chiude Può capitare Ha un bel Margine Perforare E Istituire La ruota Se l'è Costruita Per Andare A vincere Ha fatto Un'azione Pazzesca Tra l'altro Bugattar L'anno scorso Ha vinto Il Lombardia Ha vinto La legge Ma le ha vinte Entrambi In volata Qui andrebbe a vincere Una gara In linea In solitaria Che è una cosa Che non ha fatto Neanche tra gli under 23 Dove vinse il GP Bianchini Bianchini La gara di Martino Bianchini Però la vinse in volata Invece il palio Del Reciotto Arrivò secondo Perdendolo Da Buon De Bode Che riuscì ad attaccare Prima di lui A registrare Il primo giorno Troviamo Però io credo Che nel caso Sarà la prima vittoria Di Pogattar In solitaria In una corsa Di un giorno Probabilmente Sì Non ha neanche mai vinto Il campionato In linea nazionale Vinto solo Quello crono Tra l'altro Anche quest'anno Ha vinto Il ciclo cross Di Lubiana Al momento Sarebbe anche La prima corsa Di Tutti i 200 km Sì No Ha vinto Appunto Adesso ti dico Come si chiama Il trofeo G Bianchino Ha vinto Ma non dico D'avrò Su Baggioli Tipo in volata E poi al mondiale E tra l'altro Rodriguez Ormai ha un 15 secondi Sul gruppo Quindi verrà Noi Possiamo salutare Le sue chance Di finire sul podio Sì In volata Su Baggioli E Sean Pussell Lo vinse Il trofeo G Bianchino Beh Ho visto Ordin di arrivo Peggiori Quasi ripreso Sì ormai Rodriguez È ripreso Praticamente Se magari Le mondi Si spostassero Adesso Comunque Non capisco Non capisco Se la Deconi Collabori ancora All'inseguimento No 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 C'è la sgrandavanti Ma Passivo E anche Serri Accolle Pinzuto Quanto Manca Poco Dai primo Intanto Vieni Entra In live Su Primo Sta polemizzando Con se stesso È una cosa Una cosa Bellissima Questa Tipo Non Brava Brava Rodriguez Comunque Il gruppo è dato Un minuto 25 Adesso 24 Kilometri E mezzo L'arrivo Lavora La Movistar Quindi Adesso Magico Valverde Qualcosa Farà Comunque Con tutte Quelle moto Davanti Mi sembrava Impossibile Che non Guadagnassero Nulla Si vede Anche Vellens Adesso Noi Facciamo Il Vabbè Io C'ho Pugascio Capitano Alla Alla Però Vabbè Adesso Si tiffa Per Clark E Narvaez E Pejo Bilbao E Piazza Core Io Ho Anche Bar Will Che C'era L'8% Dei Giocatori Adesso Stanno Andando Forte Siamo Su Colle Pinzuto 800 Metri Sì Colle Pinzuto I Fare Qualcosa Hanno Detto Che C'è Un Hamburger Gigante In Cino Una Gigantografia Di Trampa Autografia Baby Tramp Simons Il Nostro Big Tramp Tra l'altro C'è anche Baby Tramp Che Corre Nella Jumbo Development Chi È Il Fratello Col Kobe Sì Adesso Adesso Di Pugaccia Era Un Chilo Più Pesante Agamanca Ressa Anche Figa C'è Fortissimo Non è che Robocop Quella Robocop Robocop Bisogna vedere se riescono a trovare collaborazione o no dopo Stavo pensando che l'azione pesante di Pugaccia era comunque meglio dell'azione scintillante del 99% di qua di dietro Non do per scontato Il problema fa per Miguel Angel Lopez credo Eh vabbè È male Non era neanche quotato Ma vabbè c'è già tanto che fosse arrivato qui in Colum Bene ha già finito C'è un tratto di sterrato di distanza 18 spettatori grazie mille Giustamente Luca Parodi ci fa notare che può garcere Adesso il pelotone è dato a un minuto e 08 E fa l'azione il nostro Casper Einstein con Queen Simons Fa un po' di fatica credo sia Cosne Pro a quello Bene Narvaez Anche il delito Adesso che temo che è proprio Simon Clark Comunque sì Io ho appena visto Lopez a piedi Sì io poco fa Alla Philippe è andato giù Ha un po' di fastidio alla schiena anche per Pugaccia Ma guardalo Johnny mio bello Grande Johnny E guarda Clark Dai ragazzi Che facciamo il colpo gobbo al Fanta Alla Philippe Comunque ragazzi Asgren Io ve l'ho detto prima L'ho ridetto Ve lo ripeto ancora Più passa Anche la Philippe Lei c'era piena Asgren Asgren Sta staccando anche Simons Che sta roba qua Secondo me non è furbissima Asgren è veramente un mistero del ciclismo Comunque un dieselone Se fanno la strada di anche di 260 km Se rifacessero la Bordeaux Parigi Lui batterebbe il record Lui e Tim De Klerk se la giocano Tim De Klerk lo ha messo davanti Però Asgren senza dietro moto Cioè la cosa Per esempio di Asgren È che questo qui Era finito a correre Nella Wow In un'altra In una continuita Danese Adesso non mi ricordo quale E poi sono andati a Escarlo Praticamente Che era dei più E lì Ha vinto Una tappa All'Istria Spring Trophy Proprio davanti a Pogac Nel 2018 Anche Valverde Adesso Allora Ci sono Asgren Narvaez Valverde Simons E Vellens Bene Bene Molto bene Molto 52 secondi per loro Da Pogac Valverde Pedala Pedala bello E dietro Il resto del gruppo Valverde ha cominciato Molto bene la stagione A differenza dell'anno scorso A me Questo Narvaez Riempie il cuore Riempie il corredore La quick step Non ho capito Perché è andato via Dalla quick step Però finalmente Ti sta raggiungendo Quello che pensavo Narvaez Quello che pensavo Potesse ambire E adesso Fio alle dolpe Vediamo Comunque Cioè Quelli che sono Di più forti qua Asgren E proprio Narvaez Valverde Devo ancora Asgren È Stratosferico Veramente 55 secondi Velens Il collo Se Asgren Avesse un compagno Più passano i chilometri Più sarebbe Un cliente Temibilissimo Per Pogaccio Nonostante Pogaccio Arrabbia a suo favore Lo strappo finale Eh però Bisogna anche vedere Con che energie Ci arrivi Poi allo strappo finale Comunque Asgren Non è scarto Vero anche questo Io penso Il Valverde Molto circospetto Nel Non mettere mai Il musetto Davanti Come dice Allegri Intanto io Ripenso a quella tappa Lì del California Del 2019 Che venne vinta Proprio da Asgren Su uno strappo Davanti a Moscon Con Pogaccio Una decina di secondi Pogaccio Aveva dovuto fare Uno sforzo Prima per rientrare Su quelli Quindi poi Nel finale Ci sono mancate Un po' di energia Era anche un Pogaccio Meno esplosivo Ancora di quello attuale Quindi Pogaccio Al primo anno Da professionista È cresciuto Era già fortissimo È cresciuto Lancia una provocazione Pensate che le tirate Di Asgren In favore di Alaphilippo Su Monte Santa Maria Possano avergli Precluso Ulteriori chance Di vittoria Oppure no? Vedremo La fine gara Ok Sicuramente Col senno di poi Potevano evitare Di bruciarlo così Ecco Allora Ti ho detto Da qualche anno A questa parte A livello numerico No Perché stanno vincendo Tantissimo Però noto Una certa confusione In corsa Almeno Nelle corse Di un giorno Poi in quelle In quella tappe Ovunque Se la stanno cavando Alla grandissima Mamma mia Quanta pubblicità Che fa A questo punto Visto che Luca È in pubblicità E non può vedere Ti chiedo Se non ha senso Per la Quickstep Avere magari Un'idea di portare Remco al fiandre Allora Remco stesso Ha detto Che a lui Non piacciono Le cose col pavere Nonostante La sua prima È arrivato in una tappa Col pavere Sì È una cosa Veramente difficile Da interpretare Ha visto anche La Kurne Bruxel Kund Kurne Da Juniore Staccato Van Wilder Comunque è difficile Di interpretare Per uno Con le caratteristiche Direi Di difetti Che si porta Ancora dietro Allo stesso tempo Però è il tipo Di corridore Che puoi mandare All'attacco Da lontanista Andrei A riprendere Un attaccante Non è mai Si costringe A bruciare Uomini E intanto Può essere Una versione Ultra deluxe Di Devolder Però mi è rifiuto Di pensare Che la Quickstep Arrivi al fiandre In queste condizioni Intanto Poga c'era Già iniziato Le tolfe E dietro Gli seguitori Si sono un attimo Fermati Sembra che pensino Già un po' Al piazzamento Io invece Sto vedendo Lo sprint Tra le ASOP Friedrich E MAINT Che poi Io tipo Per le ASOP Qui ha perso Quindi neanche Mi fanno tutto Sto favore Esatto E nel frattempo Dai 5 Che hanno L'insegnamento Di Pogacar Se n'è andato L'Eddie Merckx Di febbraio Sì esatto Vellent Attaccato Attaccato Sì Attaccato Sì Non è che posso Tirare per tutti Io E lui attacca Ovviamente Mamma mia Che corridori Insopportabili Sì comunque Dei geni E qua Eurosport Se proprio La pubblicità Ah E anche la pubblicità Dello sci Giusto E di Swift Oggi Saranno Grandi Saranno Molto contenti I fan Del pubblico Del ciclismo E' tornato Sulla strada Io Qui ho Kasper Asgren Che sta Attaccando Tutti gli altri Quindi se ne va Da solo Bellens in coda Narvaez Seconda posizione Poi va il verde Mamma mia Asgren Ragazzi Bellens Comunque Godo Perché È andato A rompere L'accordo Del gruppo Ed è stato Humiliato Da quello Che aveva tirato Di più Fino a quel momento Narvaez E Narvaez Bene 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 Benissimo Forza Johnny Però Asgren Asgren Tirava Già Prima di Monte Santemarie Sì No Il Fabio Mi dice Eurosport Di a Discovery Plus Zero Pubblicità Sia Anche Eurosport Player Solo Che Lo sto Guardando Alla tv Perché Ovviamente La live Attaccata Sul computer E Tanto Qui Problemi Per il 213 Covi Piccolo Problema Per Covi Che Però È Ripartito 18 Km All'arrivo Asgren Sembra Stia Andando Via Tra l'altro Asgren Davanti Un Derni Quindi Qui Potrebbe Recuperare Qualcosa Anche Se È Dato A Un Minuto E 05 Adesso Valverde Passa In Adesso E Comunque Cosa Interessante Da direttamente Per Gli ultimi Due Anni Ultimo Ha Vinto La Bellata In Fuga Solitaria Il profilo Era quello Del classico Faticatore Da Prima Ore Di Corsa In In Rialta Questo Corridore Importantissimo Come Motore Ce Ne Ha Davvero Pochi Davanti Un Novello De Volder Praticamente Tra l'altro Si è Piazzato Lo Sprint A differenza Di De Volder Magari Era Proprio In Salita Però Anche Lui Si è Piazzato Molto Bene In Un Giro Di California De Voter Ha Sfiorato Una volta Asgra Intanto 57 Secondi Quindi Qualcosa Rimonta Però 17 Km Comunque Devolder Se non Sbaglio Nella Prima Fase Della Sua Carriera Poi Non C'è Manuel Che È Il Suo Fan Numero Uno A Ricordarci Gli Highlights La Carriera Era Stato Impostato Come Corridore Da Grandi Giro Se Asgra Venisse Impostato Come Corridore Da Grandi Giro Magari Ma Top Intanto Scusa Albi Cosnefroa Si è staccato Dal secondo Gruppo Inseguitore Non so Se per un Problema Meccanico Perché Era in Difficoltà Però Si è Staccato E Anche Clark Peccato 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 Davanti C'è Ulissi Bravo Bravo Diego Ulissi Che aveva Avuto Il Covid Recente Tanto Narvaez Simons Valverde Mi sembra Ci stiamo Riavvicinando Un po' Ad Asgren Con Velles Che Sempre Lì Che Sembra Sempre Sul Punto Di Staccarsi Eh Simons Stacca Quasi Stacca Gli Altri Due Però Fine Segmento Qua E Quindi Asgren Potrebbe Andar Via Dritto E Questi Qui Potrebbero Guardarsi Perché Chi Tira Comunque Bella Gara È Di Americano Stacca Anni Di Differenza Adesso Per me Il vantaggio Di Pogaccia È abbastanza Per vincere Però Vediamo Asgren Contro Pogaccia Rimpiano Comunque Deve Essere Ancora Sterrato Se Sbaglio No Ce ne sono Ancora Due Anche Molto Aperti Sì Potremmo Invitare Yogurt Ci avrebbe Parlato La battaglia Anche 15 Km Entri Live O Niente Vediamo Chi c'è Dietro Di Interessante Allora C'è Un Bardianto Dovrebbe Essere Zana C'è Un Al Tessin C'è Velasco C'è Albanese C'è Pejon Pejoni Bibbao C'è Guerreiro Penso E anche Un altro F Ah Gli ultimi Il penultimo E il terzultimo Erano Due Eolo E uno Era Albanese E l'altro Velasco Secondo me Madonna Pogaccia Riamord Uno Velasco Albanese Che erano Poco 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 Davanti A Clark Lo Salutiamo Comunque Tolto Pogato Corsa Bloccatissima Sì 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 Comunque Il gruppo Non è che sia Lontanissimo Da 30 Secondi Da Al 34 Adesso Devo andare In bagno Vada Una grande Collaborazione Resta Asgret Oltre Pogaccia Da Questo Punto Quindi Poglio E Sì È vero Che Asgret È Comunque Un grande Crono Però Sono Due Grandi Fondisti Però Riprendergli 50 Sarebbe Di fare Il Consiglio Soprattutto Poi Per andare Dalle Tolfe Verso Siena C'è Ci Sono Degli Strappi Tosti Ma C'è Anche Un Bel Po Di Discesa Ti dà Un attimo Di Tempo Per Rifiatare Anche se Sei un po' Il Limit Ce la Fai Dopo Tutta La Pubblicità Devo Anche Beccarmi Wiggins Che Disse Le Legale È Sempre Stata Mamma Mia Gli Anglosassoni Hanno Ruinato Il Ciclismo La Ruina Del Ciclismo Ecco Ecco Qua Il Nostro Albi C'è 5 Minuti Di Wiggins Che Parla Quindi Su Minuti Della Fina Della Gara Ma Guardala Sulla Rai Non Riesco C'è Non Non Te lo Premo Sky Esatto Ma non riesci neanche a tenere sotto Rai Play No Preferisco E se switcho Se switcho Su la tv normale Non riesco a vederlo Perché non ho l'HD Peccato Eh ma qua Pugacar Sembra Che stia riprendendo A guadagnare Su Asgren C'è Gara Bruttina Lui Il numero Pazzesco Nobilitato Da un grande Campione Da un grandissimo Campione Da un fenomeno Asgren E' tornato a perdere E chissà che questi non vengono anche ripresi dal gruppo Poi Da un po' tanto Il vantaggio che hanno Però Ma Qualcuno Però Quelli dietro ad Asgren Come sono messi E se si fermano Abbiamo visto con la gara delle donne Alla fine Tra l'altro Quando Non portiamo sfortuna Il popolo Pogacar Iniziamo già a parlare di vittorie Facciamo le superstizioni Eccoci qua Letto Il svantaggio di Asgren È tornato a un minuto Quindi C'è in pratica Pogacar Dai Meno Quaranta Circa Ad adesso Da quando comunque ha raggiunto vantaggio massimo Ad adesso ha perso 30 secondi Sì E da Asgren Dagli altri Cioè il gruppo ha sempre quello svantaggio là E nessuno parla di Sesta Monumento Tra l'altro E Meno male per il nostro Sera Dici però un rinforzino adesso Luca mi sembra che si stia Un po' intristendo Un rinforzino Mi bevo un po' di coca a zero Guarda Altro sponsor Altro sponsor Beh Ecco che cosa non è che ha bisogno di noi che facciamo pubblicità Comunque adesso il pelotone è andato a 27 secondi da Asgren Quindi Simons e compagnia cosa avranno? 10 secondi? 15? Sì ma non Mi sembrano Mi sembra troppo oscillante come distacco Mi sembra che forse sia un pochino appesantita adesso la pelata di E questo era il tratto che aveva sofferto anche l'anno scorso Però c'è un vantaggio tale che figurati Cioè lo si spegne totalmente Ti può cancellare al fiandere 2011 quando lo riprende E tanto lui deve solo pedalare Cioè non è che deve fermarsi a guardare gli avversari No non vedendolo così Sì Ma sta spingendo però anche Sarà un pezzo al 20% Quindi mi sembra anche normale che ti ingobbisci E' un pochino appena spiana è comunque tornato Madonna che nostalgia mi prende vedendo questo tratto di sterrato Fa male il cuore Nostalgia di vedere Torna presto Ci manchi E' anche un po' più forte qua comunque Di caro della grafica Ma un filo più forte Però è anche dietro Dermi Mi pare Sì Sì onestamente La strada bianca dell'anno scorso Era stata un'altra cosa Però la strada bianca dell'anno scorso Effettivamente è stata La strada bianca è più bella In 15 anni di storia di questa gara Nella realtà dei fatti La strada bianca è un po' questa corsa qui Cioè è molto bella dal punto di vista scenografico Che ha sicuramente il vantaggio comunque Di accendersi sempre lontano dal traguardo Ma che non regala magari Per motivi di percorso Lo spettacolo che gli dà un piangere da Roubaix Perché comunque abbiamo visto No C'è questo tratto Parlamo prima di 20 km Di nulla Nel cuore della gara Che un po' la fine Aggiornenta il tutto Poi arriva in questi tre Tratti di serrato consecutivi Però ormai la gara è già decisa Quinta traduzione di Grupa Maier Sarà il vivis Aschi Grande Aschi A me pare attira Walter Adesso Valverde 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 è arrivato su Asgre Valverde non si smentisce mai Sì mi sembra Sì mi sembra attira Walter Ancora No Aschi è più grosso È più grosso e alle spalle Anche più larghe Quindi il nostro Fabri Era lui che ci chiedeva di attira Walter Alla fine ha avuto la sua risorsa Il primo bel attira Walter Della stagione Certo È una gara troppo strana Comunque Comunque Asgre e Valverde Sono un bel due Se vanno d'accordo Perché magari Riescono a portarlo A 30 secondi E poi Valverde Si fa tutto il muro a tutta Però a me sembra Che Valverde Ha fatto un po' la sua risorsa È stato mia mamma È mia mamma in chat Che dice che stiamo aspettando Primo E effettivamente Primo è sparito Anche dalla chat Primo si vergogna Signora Si vergogna Aveva ragione lei Dal primo momento L'aveva mappato È un timidone Il nostro primo Sì sì Il Fabri c'ha ragione Valverde a 40 Dirà Sono un tipo Rupert Sciamena Nel vecchio cogno Sono un po' L'era vecchia L'era vecchia È bravo Adesso lavora Valverde Comunque grandissima gara È anche di Valverde 55 secondi qua Su quella salicina Sembrava un po' Difficultimo 52 Però 53 Io ce l'ho a 125 Valverde Quindi Io a 100 Bravo Comunque E beh Ieri comunque Il brainstorming La verde L'ha messo Perché non l'avevi messo È vero Non l'avevo neanche visto Non l'avevo neanche visto E invece ci ho messo Benot Che è andato a spaccarsi Eppure io Cioè a 100 L'ho messo Ma speriamo Vado a riprendere Velles almeno Vado io C'è un po' Poggi Alan Benot Velles Valverde Asgreen Contro Pogacar E non è detto Che guadagno E Pogacar L'attacco Da 40 km Ormai sì Perché ok Sullo sterrato Sta la ruota Non paga più di tanto Tra un tratto Tra l'altro Sì Tra l'altro Lui sullo sterrato perde In pianura va più forte Degli altri due A momento No perché si gestisce Anche meglio Oltre ad averla in più Gli altri vanno a strappi Deve regolare La velocità di tracero Di Pogacar È superiore A quella di tutti gli altri Includo quella di un diesel 5 stelle Euro 4 A turbina Diciamo che Valverde Dovrebbe Portarlo In Kerenz Per provare a raggiungerlo Sullo strappo finale Nel caso 30 20 secondi Speriamo che questo trio Qua Anche se c'è il tuo Narvaez Venga ripreso Così ci vediamo Ma perché Scusa Perché ci vediamo Velles Se l'hanno tutti Tranne noi Io ce l'ho Velles Ma ti pare Ti pare che non lo metto Velles Allora che ti levi Dalle balle Velles Che fori No guarda Riguardo Ci sono tre Che vanno d'amore D'accordo Dai dai Forza Johnny È quasi magia Johnny Non è un gran bel corridore Nella squadra Sbagliata Ma un gran bel corridore Ma quell'anno scorso È stata bella La corsa Anche perché C'è avvenuta Una congiuntura Quasi irripetibile Dei vincitori E due due tour Vincitori Delle due classiche Più Importanti E vabbè anche Della No Rodilic non c'era L'anno scorso No Mancava solo Rodilic È vincitore Era rotto Di Sanremo E Giro dalle Fiandre Vincitori Il campionato del mondo Il campionato del mondo Di ciclocross I primi E Gog Due dei primi Quattro 48 secondi 8 chilometri A traguardo Magrini Lo sta dando Un po' per spento Un po' gaccia Era ancora Sì come faceva L'anno scorso Con Van Der Poen Nella tappa Di Cassel Fidardo Gufo Gufo Di sicuro Non sta andando piano Stanno andando Ancora 50 all'ora Sì No diciamo Che questi Devono riuscire Per adesso Grafica La mano Perdono Comunque No diciamo Devono riuscire A farsela Di comune Accordo E poi sparare Cioè però Il fatto è che Asgram Può tirare Per il podio A questo punto E quel passo Un inseguitore Corretto Sento Sento E Walter A tira Walter Peio Bilbao Grande Peio Altro bel fondista Altro grande Tank Tecnicamente Pogacar Non sta prendendo Niente Primo Mancano Sette chilometri Dove sei finito Uccelli Bosco Primo Fammi vedere Simos Da quanti È stato Giocato Da tanti Temo Eh anch'io E io non ce l'ho Beh dai Da 42 Pensavo Che 47 Secondi Che delusione Ragazzi Primo Però Rischiati di farsi Sporificare Aspetta Mi ha scritto Il link Per un saluto Adesso Dai Pancani Padromo Di Roubaix Anche a Cittadella Di Di Namur Di Namur Molto bello Dove arriva la Barstor At Hagelland Anche si Di Est Non Di Gam Di Est Di Namur Di Namur Comunque Carina Che quale Meglio Della Periferia Di Deci Devo dire Mamma La monnezza Che era Finale Vecchio Da Di Ma poi C'erano Proprio Quei pezzi Prima Riprendere Il Sandicolà Non so Se Quelle Che di Fianco C'erano Erano Fabbriche Ma Erano Abbandonate Per davvero Una roba Una roba Scena Con lo stadio Dello standard Di Ege Sempre Un mancabilmente Inquadrato Che era la roba Un po' più carina Comunque Grande 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 Strade Bianche Di Walter Bello Bello Eccolo qua Il nostro primo È arrivato Ciao Ciao Prima Grandi Ciao Prima Boy Zingiali Zingialino Boy Non so Quando risale Questo nome Comunque Stavo cercando La maschera Di Rey Mysterio Non l'ho trovata Volevo venire Con la maschera Di Rey Mysterio Fare anche La voce camuffata Tipo Buscetta In televisione No dai Andiamo alle chat Ma che è forte Twitch Bello Pijama Pijama Un po' di dress Qua ci vorrebbe Ragazzi Tra un po' Devo anche uscire Metti almeno Una salviettina Nella tasca Del pigiama Ma lei Ma lei è un pigiama Eh boh L'han detto In ciò L'han detto Fabri Noi siciliano Io Speravo di trovarmi Tutti ubriachi E invece Nessuno Ha detto Monumento Ma perché Probabilmente L'avranno Abbandonata Questa Puttanata E la sesta Monumento Si sanno Resi conto Anche loro Voglio sperarlo Cazzo che merda Come va la corsa Che dite Che mi dite Eh Io direi Primo Fogasta Secondo Valverde Terzo Alperon Terzo Alperon Quarto 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 posto Quarto Gianni Ma che bello Valverde Sarà contento Malori Malori ha fatto Un post su Facebook Su Valverde Shitstorm Glamorosa Chiaramente Perché appena si muove Pesta una merda Malori fa parte Dalle categorie proteste Dei fragili Ma pensavo Pensavo che ce l'avesse con GV In lui A morte Sì Sì Ce l'ha Sì ma nessuno Gli ha detto Che bastite Ma se Si è guadagnato Un contratto Facendo Dai che dai Che bello Guarda Peio Guarda Peio Che va via Guarda Peio Che va via Dai che Velles Magari si stacca Ma basta Questo Velles Che coglioni Che ce l'ho Dai Eh cioè Tra i primi Conto Tra i primi Deci arriva Rassegnati Magari si pianta Magari si pianta Sul muro Ma non si pianta Ma basta Dai Stacati Velles Comunque Allora Tadei ha evitato Che questa corsa Quest'anno Facesse Tadei ha evitato Che quest'anno Questa corsa Facesse un Clamoroso Passo indietro Comunque E che fattesse La fine Della strade bianche Di Moreno Moser Ecco Che fu una bruttura Veramente Allucinante Beh ma Cioè Alla fine Le strade bianche Veramente belle Sotto E' stato Quello Corso E Quelle altre Eh Quella di Bello Dai è stata Bella E Quella del 2019 No Quella di Van Aert Bellina 2017 Una schipezza Vinta da Kiatowski Con una fagianata 2016 Quella di Brambilla Cancellara Poca cosa 2015 Bellina Dai con Valverde Stibar 2014 Kiatowski Sagan Quella Ma ha detto Poco E Nel 2012 Un grande Oscar Gatto Che arrivò Sul podio E L'anno Manco Anche Era stato Quando Nibali Aveva scazzato Paura Con Con Rosa Che c'è quinto Perché non l'avevo Aspettato Quello era il livello Della strada Di bianca L'anno Scorso È stata Un piacevole Una piacevole Eccezione Ma visto che si tira Ancora fuori L'albo d'oro Per Classificare Alcune corse O comunque Come Come elemento Per la classificazione Di alcune corse Il 50% Dell'albo d'oro Delle 16 edizioni Di questa Di questa Strada Bianca E Ricomprende Ancora Benot Iglinski Moreno Moser Kolobnev Chiacoschi Due volte Quindi voglio dire È una corsa Che deve ancora Costruire La sua storia Ma gli elementi Ci sono Cioè Sulla strada Bianca Come al solito Non si deve fare Un discorso radicale Né da un lato Né da un l'altro Occorre Prendere Dei dati oggettivi E svilupparne Secondo me Un'analisi Questa è una corsa Che potrà essere Chiamata Con quel termine Che piace tanto Monumento Perché effettivamente A seguito Perché lo scenario È bello Perché Spero di essere morto Da vent'anni Ragazzi Pogatar Si strezza Anche la schiena Tranquillo Tranquillo Troppo Guarda Sì Un po' Che problemina La schiena L'ha avuto Oggi Pogatar Perché ha fatto Molto stress Però Che gli frega Lui Non demonizzo Il termine Ma l'uso Che se ne fa Eccoci qua Un chilometro e mezzo L'arrivo E Tadej Ha guadagnato ancora Cioè pensa Quanto Sento Che comunque Pancani Sta Dipendendo La lunghezza La strada Di anche Le soli Soli Che non Il problema È che bisogna Sempre farità Le bagni E difendere Le cose Clar Come sempre Perfette Cioè Ma metiti 50 km In più E sai Quando ci divertiamo Di più Ma comunque Primo Tef Ci ha ascoltato Quando dicevamo Che che può fare Quello che ha fatto Van Aert L'anno scorso E fu Sangrano Primo Pogacar Se no Corsa bloccata Pogacar Ha fatto Corsa a parte Il resto Dietro Corsa bloccata Sono arrivati In 50 Almeno 20 Sì Cioè Ci sarà dietro Un gruppone Tipo Strade Bianche Di Gilbert Dove arrivare In 30 Ok Intanto Il Fabric Si rende partecipi Di una Una tragedia Familiare Ma mi raccomando Non buttare Il figlio Nel cassonetto Sappiamo Che potresti Essermi Tu stesso Dice Che lo hai scritto Grande Grande Pogacar Se posso Dire la mia Opinione Rispetto alla Ritorica Che si è creata Intorno a Questa Corsa Tanto L'aiuta Anche la posizione In calendario Perché a livello Di aspettative Quando Incomincia La stagione Di un nuovo Sport Quale che sia C'è sempre Un certo Livello Di interesse In più Che si crea Negli appassionati Vabbè Io guardo Lo Scialpino So che Luca Lo odia Più o meno Perché Gli fanno E è lo stesso Hype Che si crea Per L'apertura Di Solden Cioè Solden È un gigante Che nel contesto Della Coppa Del Mondo Di Scialpino Non è poi Così speciale Però c'è sempre Molto interesse Intorno Proprio perché L'ouverture Della Coppa Del Mondo O come è Per la Formula Un in Australia Quando ci correvano Ancora Bei tempi Prima Un grado Esperto Di sport Invernali Anche un grado Amico Di Max Ambesi È il fan Numero uno Di Thunderbolt È di Dorotea Wierer Può Gazzar Dal 5 Al Comunicato Alla Sesta Del fan club Di Dorotea Wierer È il nostro Primo La Adoro Io L'adoro L'adoro Ma come sportivo Come Donna No Come tutto Come tutto È un po' la mia Colbrelli Diciamo Dai ma hai visto oggi Senza averne la stessa storia Per carità Rubo Rubo Un neologismo Cognato Da Giovanni Duck in the face Lotte col Brecci Sì sì Non ho potuto vedere Perché ero in palestra Mi stavo allenando Però ho visto come Sono andate le cose Ah ok Stai allenando Per picchiare No Ce la farei Eccoci qua Quaranta Quasi cinquanta Kilometri Qua Quanti se ne fanno Cinquanta Cinquanta Kilometri Di controllo Sulla corsa Cioè la cosa Che impressiona È come Qualsiasi cosa faccia Sembra che sia Sempre in controllo Di quello che fa È impressionante Fatta proprio Gara a sé È un uomo In mezzo ai bambini Usiamo queste similitudini Questa metà Il bullo delle elementari Abbondantemente abusata Quindi un uomo In mezzo ai bambini Sì è tipo i bulli Dei cittadini Che hanno 18 anni E i figli Vanno ancora in quinta elementare Tanta gente È comunque A vedere la gara Già almeno L'arrivo Non c'è mai Comunque Il verde È arrivato da solo Noi lo vediamo Fra un po' La vittoria In solitaria È una classica Con più chilometri In fuga Da Non so da quando Forse Dal Dal fiandre Di Gilbert Se Così Sì però Magari In una classica Di secondo piano Anche Saga Nella Rubeci Sarebbe È però Lui Sì esatto Si è portato Lui Magari In qualche Corsa minore Intanto Magrini Ha detto Se non è un monumento Anche questa Quindi Ho finito la birra Ragazzi Una balla Quindi io direi Che tocca Primo Tu non hai niente Un bel mirto Prodotto Nelle foreste Della Sina No Ho preso un caffè Non sto bevendo In questo video Quindi guarda Attila Attila Poi Peio Poi Donnie E non vedo E non vedo Vellens Io Dai smettila Ma speriamo Arrivi trentesimo No È questo Vellens Povero No godo Godo Alla faccia tua Devi soffrire È questo È questo Vellens È questo È questo No forse non è Vellens Ma speriamo che sia Vellens Ma no Era già dopo la salita Ma Asgren L'hanno rapito È stato È stato Abdotto Dagli alieni Comunque sul Monte Sante Maria C'era un cartello Che neggiava A Tunaherz Sì sì Ve l'ho visto anch'io È vero È vero È giusto Frate Ingiustamente Carciate Magari Magari Attesa Segnali di risveglio Da parte del pubblico italiano È giusto Il cartello A Tunaherz Rota Cazzo Lo sapevo che dovevo giocarmelo Rota Mannaggia a me L'ho messo a riserva Un grande classico Mettere sempre a riserva Poi chi va forte Vediamo Posta top ten Ighita Ha fatto una buona gara Guerreiro Vedo Meris Un altro Intermarché Scusis Quello Lo scuola L'Inghle Zana Rodriguez Bravo Denny Barca Mi spaventa Con addirittura Un quarto posto Di Velle Speriamo di no Sì era già arrivato Mi sembra C'è arrivato quarto Era già arrivato Il lotto era un altro Se non sbaglio Il lotto era un altro Però in teoria Quanto 152 L'Alter Grande Attila Anche perché possono essere Le classiche Così Mosse Non era 152 Magari era Tipo Cron Non lo so 151 Penso sia arrivato ottavo Dai Albi Non disperare No no Ma è questo Il livello Di Velle Appena si alza Un minimo Il livello Parlando sempre Di corsi Di 180 km Questi Cipetti Che a Pogacar Che gli escono Dal casco Sono un attimino Bizzarri Sì comunque Corsa Che va effettivamente A intermittenza Nelle sue edizioni In questa C'è La Valverde A parte i denti Tipo Chris Benoit È una mia impressione Sì ma È anche il discorso Che facevamo in chat Prima Non era una polemica Con me stesso Cioè Il parterre Nel momento Nel momento in cui Il parterre Si impoverisce Che rispondevi Da solo Nel momento in cui Il parterre Si impoverisce Di quei nomi Cioè Lo si vede In corsa Comunque Si ritorna Ad altri scenari Si recuperano Degli schemi Che altrimenti Sembravamo Abbandonati Cioè C'è Un peso Sensibile Da parte Di alcuni Corridori Pettilli Nono Era Pettilli Bono L'ho fatto Donato Cazzo Pettilli Davvero La sorpresa Di giornata Poi Valgren Detier Rota Reichenbach Guerreiro Comunque Grande gara Di Walter Grande 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 Gara Di Walter Secondo me Se non perdeva L'attimo Sulle Tolfo Poteva anche Arrivare Con Hasgren Può essere Alla fine Andato Più forte Di tutti Nel finale Cosa volevo dire Facciamo un giro Di pronostici Per Pariginizza E Tirreno Adriatico Prima di Andar via Pallo Chi vince La Pariginizza A Pariginizza Direi Roglic A Tirreno Vado con Renko Dai Secondo me Riuscire A in una Delle tappellina Che non Quelle Del Carpegna A trovare Un attacco Stemporanea Scardina La Resistenza Di Pogaccio Anche se è un po' Puntarsi una pistola Sulle balle Scommettere contro Questo Pogaccio Però Lo facciamo Per Per la qualità Dello stream Adi Roglic E Pogaccio Proprio banale Prima Ragazzi Voi scommettereste Contro questo Pogaccio Cioè Una bella Semilitudine No Mi unisco Alla banalità Del pronostico Di Albi Perché non No Anche perché Poi penso Che il Più credibile Rivale Di Roglic Per la Parigi Mizza Sia Quello che Accade Perché Bene o male Gli altri Sono un po' Carenti Sì E Vanapp Anche se Dai In cambio Tolgo Roglic E McNulty Ma Martini Scorre La Parigi Inizio Sì Boit Nanti E Pogaccio Dai Il tuo pronostico Luca Guarda Io Danny Bark Ha detto una cosa Molto intelligente In chat Non vorrei che Tra i due litiganti Alla tirerendo il terzo Godesse Ovvero Wingegaard Che è andato Molto forte Alla drone Classic Quindi io dico Wingegaard E Roglic È andato male In Francia Quindi Visto che Vedete tutti i Roglic Vario un po' Sullo sportito E dico Almeida Almeida Riuscirà a vincere In qualche modo Sfruttando la subrivalità Numerica Non so neanche lui come Però vincerà Almeida Dai la pariginista Tu Primo Mi sono già unito Alla banalità di Albi Ah Cioè proprio Ma io ho cambiato Denis ci chiede Meglio Almeida O McNulty Alla pariginista Direi livello simile Nel complesso Perché Magari Almeida Può prendere Qualche buono Qua e là A crono 50 e 50 Io direi Che dovranno Un po' Sfruttare Magari Provare a sfruttare La sua priorità numerica Contro Roglic Però c'è da vedere Come va Roglic Appunto perché Nella Sudardash Alla Faunardash Alla Drog Classic Non è che abbia esaltato Però la pariginista Sarà comunque Un'altra cosa Sì Se posso La cosa che mi stuzzica Di Di McNulty Effettivamente Che Ha fatto tanti attacchi Da lontano In questo inizio stagione Un paio di tappi Alla pariginista Che potrebbero strizzare l'occhio A quel tipo di attacchi Ci sono Quindi magari Se c'è uno Che può forse Saltare il banco Potrebbe essere Proprio lui Vediamo ancora Quest'ordine d'arrivo 17esimo Vendrame Bene Indre Bene Zana Comunque è arrivato A 19esimo Alla fine 20esimo Carlos Rodriguez Il nostro Carapazza È arrivato A 30esimo Clark 26esimo Barguil 27esimo Delusione di giornata Probabilmente Cosnefroix Perché è solo 29esimo Insomma Io me lo aspettavo Dopo averlo visto in Francia Me lo aspettavo Andare in modo diverso Effettivamente Probabilmente Soffre un po' Gli sterrati Ci sono per caso Delle cose Che volete dire Oppure possiamo Avviarci Verso la chiusura Io ho una domanda Per voi Per Albi In particolar modo Sì dimmi Il punto della situazione Su Vanderpool Sta bene Sta allenando Prospettiva No Dalle parole Di suo papà Dovrebbe stare Altre due settimane In Spagna Quindi Dovrebbe saltare Poi sicuramente La Milano Sanremo Credo Che l'obiettivo Sia la seconda Parti Dalle classiche Dall'Amstel O dal Piandre Secondo te Amstel Roubaix Secondo me Per il centro È un po' presto Però non stiamo Parlando di un Corridore Qualsiasi E Non credo Che tutto il male Venga per nuocere Per la prima volta In anni Riesce a mettere Una bella base E a far guarire Sta benedetta A schiena Penso che sia Un lavoro I cui frutti Si raccoglieranno Non immediatamente Anche se non escludo Che Possa succedere Domani Vai vai L'Amstel Torna al percorso Classico Quello è l'anno scorso Sì Tecnicamente Classico Dicevo domani C'è anche Il GP Jean-Pierre Moseret Che è una gara Per velocisti Ci saranno tanti Sprinter Interessanti Comunque Il via C'è il mio amico Hugo Offstetter Che speriamo Vinca la gara Una benedetta volta Anche se ho messo Come capitano Il fantaciclismo Il buon Arnaud Delis A post Bene Allora Io direi che Se non ci sono Domande Dai nostri amici In chat Se non avete Altre valutazioni Da fare voi Possiamo anche Andare in chiusura Anche perché Siamo arrivati A due ore E quindici Purtroppo I telecronisti Ci hanno un po' Rovinato Il nostro Drinking Game Perché Questo è a sesta Monumento L'hanno detto Due volte Quindi per fortuna Nostra Finiremo la live Sobri E con il Pegato A posto Prima di chiudere Ovviamente Anche Prima Saluto e ringrazio Quindi saluto e ringrazio Il nostro Iacobo Meglio noto Come Spalloni Che nella sua Cantina Della sua Villa Sul Lago Maggiore Tiene il latte Nel tweet Ciao Spallo E buona serata Buona serata a tutti E Posso fare uno spoiler Non provate a rapinarmi Se mi vedete in giro Non sono davvero Un borghese Cioè perché Mi fa ridere Perché Presumo Che tornassi a ascoltare Ci siano rapinatori Magari 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 Hai già trovato Martino Bianchini Fuori di casa Pistola Di quella Che esce La bandiera Della pistola Il podcast Più amato Dagli avanti Della società Bellissimo Giovanni Ci chiede Quale corso Secondo voi Può essere Considerata La settima Monumento Beh io metterei La volta Portugale È una Diecima Monumento No Allora No Prima Tanto che Albi Discuti con la regia Direi Che Ringrazio Anche il nostro Primo Che è venuto qua Superato Il problema Di timidezza Ciao Prima Buona serata Buona serata Unici problemi Che non ho Quelli di timidezza Ciao a tutti Grazie Ringrazio Il nostro Albi Che invece oggi Era andato a farsi Un bel Liquore Con le erbe Della foresta Di Brugheria Ma non l'ha potuto Bene Ormai È tutto disboscato Perché bisogna Lasciare spazio All'industria Progresso Grazie Grazie Buona serata Ciao a voi Ringrazio Tutti voi Che ci avete seguito Vi ricordo Che se non siete Ancora iscritti Al canale Potete iscrivervi A Twitch E iscrivervi Al canale Questo è Assolutamente Gratis Vi ricordo Che nella Home page Del nostro Canale Twitch Trovate Tutti I link Alle nostre Pagine Social A Facebook A Youtube A Twitter A Instagram Su Youtube Ricarichiamo Alcune live Tra cui Anche queste Vi ricordo Che se volete Darci una mano Supportare Il nostro Progetto Dal punto Di vista Economico Potete Abbonarvi Al canale Ci sono Due modi Per abbonarsi Al canale Uno è L'abbonamento Standard Che sono 4,99€ Al mese Quindi una spesa Molto ridotta L'altro è L'abbonamento Tramite Amazon Prime Perché praticamente Twitch È una costola Di Amazon Prime Quindi voi Collegate Avete Collegare Il vostro Account Amazon Prime A quello Twitch E vi abbonate In quel caso È assolutamente Gratis Detto questo Ancora grazie Ciao a tutti Appuntamento Martedì Con la solita live In cui parleremo Di tutto Poi appuntamento Di nuovo Sabato prossimo In cui commenteremo Le tappe Di Pariginizza E Tireno Adriatico Ciao ciao a tutti E buona serata